insomma buonasera benvenuti il mio nome è Antonietta Confalonieri e partecipo a questo pomeriggio di lavori in qualità di responsabile in Sardegna dell'Unione Forense per la tutela dei diritti umani. Questo è un evento che è stato voluto dalla commissione pari opportunità del comune di Sassari quindi dal comune di Sassari insieme all'Università e alla Unione Forense per la tutela dei diritti umani. È un evento dedicato alla violenza sulle donne e è soltanto il primo di una serie di incontri che sono stati organizzati dal comune di Sassari che sono stati organizzati in Sardegna, a Roma, in Italia, nel mondo perché è in e si vuole accogliere così l'invito che oramai da vent'anni l'ONU ha rivolto a tutti noi per dedicare dei momenti al 25 il giorno 25 di novembre per riflettere sulla violenza sulle donne e come contrastare le violenze sulle donne. Dicevo questo è il primo perché giochiamo forse un po' in anticipo perché temevamo la concorrenza dal 25 e quindi siamo partiti prima ma forse anche semplicemente perché riteniamo che 25 novembre è tutti i giorni e anche perché dal 25 novembre al 10 di dicembre l'ONU fa anche un'altra campagna che è proprio intitolata 16 giorni di attivismo per i diritti umani quindi noi ne abbiamo giunto altri due incominciamo il 22 perché parliamo di tutte le diritti umani perché la violenza sulle donne è violazione e violazione dei diritti umani. La violenza sulle donne è stata definita, è una definizione che conosciamo tutti, qualsiasi comportamento, qualsiasi gesto, qualsiasi omissione, qualsiasi parola o anche ogni silenzio che provoca anche solo sofferenza nei confronti di una donna e che viene rivolto nei confronti di una donna per il solo fatto di essere donna e allora violazione dei diritti umani e violenza significa questo e questa serata è dedicata a questa riflessione. La violenza incominciamo a essere persuasi del fatto che è strettamente collegata alla cultura e allora forse possiamo incominciare a intraprendere un percorso di cambiamento, si parla moltissimo di innovazione in questi giorni. Ok, apriamo un periodo e un percorso di innovazione culturale. La violenza la riconosciamo come espressione della cultura quando una donna in Iran muore per un ciuffo di capelli mal posizionato. La riconosciamo quando una donna in Afghanistan non può più percorrere un pezzo di strada da sola se non è accompagnata da un uomo quando una donna in Afghanistan smette o non può più praticare sport, non può più ascoltare la musica. Ma violenza forse facciamo più difficoltà a riconoscerla e anche quando rimproveriamo l'astronauta perché parte in missione e sta lontano da casa in uno spazio lontano e gli viene rimproverato il fatto di affidare i figli all'altro genitore. E allora violenza è una violenza di discriminazione e una violenza e violenza quando non riusciamo a raggiungere una parità tra l'uomo e la donna. E soprattutto quando la donna eh mi permetto di riprendere le parole di Papa Francesco rimane nell'ombra. E allora su questo e da questo momento noi vogliamo aprire una riflessione. Una riflessione sul ruolo della donna nella società, nel lavoro, nelle professioni. Siamo tanti stasera e ognuno di noi ha scelto di essere qui stasera e ognuno di noi ha scelto anche, mi piace, che abbiate accolto l'invito di avere un simbolo di questa giornata che vuole essere forse la scelta di contribuire tutti insieme a posso dire intraprendere un percorso di cambiamento verso una cultura di rispetto dell'essere umano della donna. mi fermo qua perché voglio che l'apertura di questi lavori venga assolutamente fatta dalla presidente della commissione pari opportunità av così non faccio gaff av Bertoncelli. Grazie. Grazie Antonietta. Quindi saluto anzitutto i presenti, i partecipanti che ci stanno seguendo in diretta streaming. poi rivolgo un saluto speciale e un sincero ringraziamento al magnifico rettore Gavino, professor Gavino Mariotti che purtroppo oggi non non è qui presente e ringrazio chi appunto lo sta sostituendo il pro rettore Antonio Piana perché oggi ci ospitano proprio in questa aula magna di del nostro prestigioso Ateneo di Sassari, onorandoci naturalmente anche della loro presenza. Do il benvenuto al signor sindaco di Sassari, professor Gian Vittorio Campus. Il prefetto purtroppo oggi non può essere presente per impegni istituzionali. Monsignor arcivescovo metropolita di Sassari Gianfranco Saba. Rivolgo inoltre un saluto e un benvenuto al professor avvocato Antonio Giulio Lana in qualità di presidente dell'Unione Forense per la tutela dei diritti umani collegato con noi da Roma e ringrazio la ringrazio per aver scelto di celebrare con noi questa occasione internazionale così importante. Infine un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci stanno seguendo in streaming, ai magistrati, alle autorità civili e militari per aver accolto l'invito a partecipare ai presenti ordini, l'invito a partecipare anche di tutti i presidenti appunto degli ordini professionali, tutti gli iscritti, tutte le associazioni, i clubs Rotary, gli Neruil, il Soroptimist e quant'altro. Oggi appunto ci ritroviamo in questa giornata appunto dedicata contro la violenza sulle donne per trattare appunto un tema molto importante che riguarda gli strumenti e le prassi per contrastare la violenza sulle donne. Ecco che noi come Commissione Pari Opportunità abbiamo favorito insomma e promosso questa questa iniziativa, questo convegno con lo scopo di fornire un aiuto a tutte le donne vittime di violenza. In tale ottica si è fatto in modo che anche gli argomenti trattati con il linguaggio scelto potesse essere di facile accessibilità insomma per tutti. con questo convegno si vogliono dare informazioni sugli strumenti e fornire consigli pratici al fine di contrastare e prevenire episodi di violenza ed in particolar modo per fornire un aiuto concreto a tutte le donne che in questo momento ci stanno ascoltando. Quindi adesso nel dichiarare aperti i lavori di questo incontro ascoltiamo i saluti istituzionali a partire dal dottor Antonio il prorettore Antonio Piana al posto della sostituzione del prefetto del prefetto del rettore magnifico. Grazie. Grazie, grazie avvocato, buon pomeriggio a tutti e a tutte e sono particolarmente lieto di portare i saluti del magnifico rettore che oggi assente per altro evento istituzionale a questo incontro organizzato in occasione della giornata mondiale contro la provenienza sulle donne per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere. Tanti, troppi episodi criminali nei confronti delle donne vengono quotidianamente registrati, donne che vengono uccise, ferite, oltraggiate dentro e fuori delle mura domestiche e purtroppo, come sappiamo bene, questi dati non sono certi, non sono definitivi. C'è una sorta di omertà che copre questi episodi di violenza. Le donne spesso hanno paura di denunciarle per avere ulteriori ripercussioni violente da parte di chi le ha fatto del male oppure anche per timore di non essere credute. E cosa si può fare per aiutare le donne che subiscono violenze oltre chiaramente a spingerle a denunciare coloro che hanno fatto loro violenza? Intanto parlarne. Parlarne perché è un fatto positivo in quanto aiuta a rompere quel muro di silenzio e di omertà in modo a far capire alle donne che non sono sole. C'è qualcuno che è pronta ad ascoltarle, ad aiutarle e anche qualcuno pronta a dare delle risposte concrete. Una società rinnega a se stessa se si volta dall'altra parte e se non si interviene con fermezza. L'evento di oggi è significativo. L'evento di oggi che vede riuniti qui nella Lamagna dell'università autorità civili, militari, religiose, accademiche e associazionistiche. Prevenire la violenza significa combattere le sue radici culturali e proprio per questo sono strategicamente importanti l'educazione, la sensibilizzazione, il riconoscimento delle pare opportunità in ogni ambito e chiaramente ritengo che l'attenzione debba essere rivolta in particolare alle nuove generazioni. Quindi un occhio particolare deve essere investito, deve essere rivolto alla formazione, nelle scuole, nelle università, nella società per creare proprio una cultura, come diceva l'avvocato Confalonieri poco fa, di vera parità e di eguaglianza tra i sessi. E quindi interventi ritengo che sia importante rafforzare il sistema scolastico, migliorando la capacità operativa degli insegnanti nel riconoscere, far emergere e gestire dei casi di violenza sulle donne. Promuovere nell'offerta formativa l'educazione alla parità tra i sessi, anche la revisione, attraverso la revisione didattica dei programmi e dei libri di testo. Formare operatrici, operatori del settore pubblico e privato per riconoscere e prendere in carico episodi di violenza. Rafforzare la prevenzione attraverso la rieducazione degli uomini che si sono resi colpevoli di atti di violenza nei confronti delle donne. Guardare anche con un occhio particolare ai mass media, alla pubblicità, che possono dare dei messaggi che influiscono negativamente sulla fenomenologia della violenza maschile contro le donne. E anche il nostro Ateneo. in questi anni si è reso protagonista di diversi interventi e diverse azioni. Ha recentemente messo, per esempio, ha recentemente adottato di un gender equality plan, che era uno strumento indispensabile e che mancava in Ateneo. Ha attivato corsi di formazione sull'identità di genere, sul diritto antidiscriminatorio. Ha attivato, in collaborazione con la clinica psichiatrica dell'Audi Sassari, un ambulatorio clinico per la vitimologia e la prevenzione della violenza. Ha attivato uno sportello di consulenza per la prevenzione della violenza di genere. E sono nati spontaneamente anche dei centri e dei comitati, come Argino, o il Comitato Diva per le diversità, l'accoglienza e l'integrazione, che si occupano quotidianamente di queste tematiche. Quindi mi piace concludere questo mio breve intervento di saluto anch'io con una frase pronunciata al Santo Padre nell'Omelia del primo gennaio scorso, ricordando Maria. Mentre le madri donano la vita alle donne e custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne. Quanta violenza c'è nei confronti delle donne. Basta ferire una donna e oltraggiare Dio. Grazie. Dopo queste bellissime parole del prorettore, dottor professor Antonio Piana, adesso ascoltiamo il sindaco di Sassari, il professor Gianvittorio Campus. Grazie Gabriella. Un saluto davvero a tutti, alle autorità, a tutti i presenti, ma soprattutto un ringraziamento all'Unione Forense, all'Università, alla Commissione Pari Opportunità, per aver organizzato questo convegno, questo incontro di oggi. sappiamo ed è stato detto che in qualche maniera dobbiamo pensare di dover uscire dalle nostre stanze, dobbiamo uscire anche da questi incontri, dobbiamo portarli fuori, perché il parlare tra di noi, questo è un auditorio estremamente qualificato, ma il problema non è qui, il problema è fuori. Dobbiamo riuscire a portarlo fuori. Ed è quello che in qualche maniera, anche noi, come Comune di Sassari, stiamo cercando di dare contributo. Una delle più grosse soddisfazioni della mia vita come amministratore pubblico è stata quella, oltre vent'anni fa, di far partire il progetto Aurora, che è stato il primo progetto in Sardegna per la tutela delle donne sottoposte a violenze domestiche. E che è cresciuto molto, ne parleranno sia gli assessori che interverranno al nome del Comune, sia il dirigente, il dottor Solinas. E non è solo quello, in questi giorni la polizia locale sta facendo degli incontri all'interno di una galleria, di un centro commerciale, distribuendo degli opuscoli e invitando le persone a rivolgersi anche a noi. Per questo, così come appunto gli operatori del progetto Aurora hanno organizzato anch'essi un altro incontro, così come istituzionalmente, questo sì, sempre come messaggio, sempre come manifesto, il 25 ci sarà la seduta solenne del Consiglio Comunale per ricordare appunto come tutta la nostra comunità cittadina debba e voglia partecipare a questo sforzo. Che è uno sforzo di cultura, l'ha detto perfettamente Avvocato, è uno sforzo di cultura. Avrei difficoltà anche a definirlo una ricerca di uguaglianza tra sessi, perché non è certo, facendo fare corsi di bodybuilding piuttosto che di difesa personale, che possiamo portare l'uguaglianza tra i sessi in una famiglia dove un marito, un fidanzato, un convivente picchia la moglie o la fidanzata o la convivente. Non è una questione di forza, è una questione di cultura. E questo dobbiamo arrivarci dando però intanto quegli strumenti di sicurezza, la serenità di un appoggio, la serenità di poter avere un aiuto. Questo lo stanno facendo molto, anche i corpi dello Stato da questo punto di vista lavorano, c'è questo opuscolo che ha avuto maniera di vedere, del Ministero degli Interni, dove alcuni dati sembrerebbero essere incoraggianti, quantomeno il numero dei femminicidi che scende da 25 a 22 a 21, ma sono sempre 21 pugnalatte nell'animo di ciascuno di noi e stiamo parlando solo di un semestre. E quindi grazie per questo convegno, grazie per la vostra presenza, grazie per tutto quello che ciascuno di noi fa, ma soprattutto grazie per quello che riusciremo a trasmettere all'esterno, soprattutto con le nostre azioni. Grazie e buon lavoro a tutti. Ringrazio il sindaco, il professor Gianvittorio Campus e adesso ascoltiamo il monsignor Gianfranco Saba che procederà appunto con i saluti istituzionali. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Porto un saluto, porgo un saluto cordiale, deferente all'Unione Forense per la tutela dei diritti umani, la Commissione Pari Opportunità. Saluto il rettore professor Gavino Mariotti, qui rappresentato dal professor Piana. Saluto il signor sindaco, professor Campus, e tutte le autorità civili, accademiche, militari qui presenti. Il tema oggetto di questo incontro è indubbiamente di particolare attenzione per tutti noi a partire da prospettive molteplici. Anzitutto il tema della violenza. La violenza sempre e comunque è un male verso chiunque essa venga prodotta o da chiunque venga generata. Il tema della donna altresì è un tema importante perché all'interno di una prospettiva teologica essa non è altro che la realtà personale non secondaria rispetto alla persona all'uomo ma una figura complementare quindi con una sua propria specificità una sua propria identità e perciò ogni forma di aggressione alla creatura e al creato è un male in sé che deve essere sempre e comunque condannato e mai promosso. È stato già citato da tanti il messaggio di Papa Francesco e ne sono particolarmente grato desidero ricordare anch'io un suo intervento nel quale disse che le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per tutta l'umanità quindi appartiene alla sfera del degrado e quindi dell'assenza di una cultura di una elevazione culturale. Non possiamo guardare dall'altra parte le donne vittime di violenza devono essere protette dalla società. Vi è una realtà capillare nel territorio che qui rappresento che la parrocchia e l'azione pastorale svolta anche in foro sacramentale che è un foro certamente segnato dal sigillo del segreto totale ma che certamente custodisce profonde e terribili esperienze di racconti di violenza subite dalle donne e anche luoghi di incontro e di attenzione verso queste situazioni. La rivelazione cristiana pone in rilievo come la donna sia una figura credibile non a caso Gesù la sceglie come testimone della risurrezione. all'epoca in quel contesto culturale se scegliere una donna come testimone significava esporrere la grandezza di un messaggio alla non credenza alla non accoglienza mentre nella la ricerca filologica contemporanea ha posto in rilievo questo grande scacco e scatto in avanti quindi diritti umani e teologia diritti umani e scienze delle religioni credo che abbiano tanto in comune da portare proprio fuori di qua come diceva poc'anzi anche il signor sindaco grazie a tutti un ringraziamento anche al al civescovo di sassari il monsignor Gianfranco Saba ed infine adesso con il presidente dell'unione forense per la tutela dei diritti umani portiamo a sassari in un contesto internazionale nazionale professor Antonio Giulio Lana che appunto sentiamo ci sentiamo onorati di averla a tavola nel nostro tavolo con noi un tavolo naturalmente virtuale e poi e diciamo e lo ascoltiamo ora ora ci colleghiamo con lui professore sì grazie grazie a lei buonasera a tutti ringrazio l'università di sassari il rettore e il prorettore che l'ha il professor Piana che l'ha sostituito il sindaco di sassari il collega Gianvittorio Campus il monsignor Gianfranco Saba la responsabile dell'unione forense per la tutela dei diritti umani Antonietta Confalonieri che in particolare modo ringrazio proprio per aver organizzato questa questa bella iniziativa e la commissione pari opportunità del del comune di sassari per aver contribuito all'organizzazione di questa di questa giornata che mi pare veramente molto importante e si è già colto da gli interventi di saluto che mi hanno preceduto proprio per non togliere spazio ai relatori che sono molto numerosi di questa importante appunto giornata io sarò molto breve nel dire due nel svolgere due considerazioni dopo aver illustrato in maniera molto veloce la nostra associazione che è stata fondata nel 1968 da Giuliano Vassalli Giovanni Conso e da altri attenti giuristi rispetto al tema dei diritti umani tema che tema che all'epoca non aveva l'attenzione non riceveva l'attenzione sul piano nazionale e internazionale che certamente riceve oggi e direi per fortuna questa associazione nasce proprio con lo scopo di sensibilizzare e di diffondere la conoscenza del diritto umano delle convenzioni internazionali e della giurisprudenza internazionale ma anche la legislazione nazionale e la giurisprudenza nazionale sul tema della tutela dei diritti fondamentali e dei diritti umani come mediante l'organizzazione di corsi di convegni di seminari come questo odierno con l'attività di advocacy dinanzi alle varie istanze nazionali ed internazionali con la pubblicazione di una rivista scientifica dal 1990 i diritti all'uomo cronache e battaglie fra le varie iniziative organizzate certamente il tema della violenza nei confronti delle donne è centrale numerosi convegni sono stati organizzati e corsi su questo tema una grande militante di queste tematiche che ha avuto l'onore di a cui ha avuto l'onore di contribuire sia sul piano appunto della militanza all'interno di questa nostra associazione sia all'interno dello studio legale di cui faccio parte Tina Lagostena Bassi ha contribuito in maniera significativa alle battaglie a tutela della donna contro la violenza lo stupro nei confronti delle donne con tutta una serie di battaglie anche non solo come avvocato ma anche come parlamentare a metà degli anni 90 quando ha contribuito insieme ad altri parlamentari di vari schieramenti politici affinché venisse modificata una la legislazione italiana che prevedeva lo stupro come violenza nei confronti come pena come reato nei confronti della morale invece che nei confronti della persona giustamente si diceva appunto si valorizzava il ruolo della persona due battute vorrei sottolineare soltanto due aspetti per appunto non togliere tempo a chi a chi mi a chi seguirà nel nel dibattito e ai relatori di questa intensa giornata due aspetti dicevo il primo con riferimento al femminicidio non può a mio modo di vedere essere considerata un'emergenza un fenomeno che si verifica ogni tre giorni noi sappiamo che ogni tre giorni viene uccisa nel nostro paese una donna dal marito ex marito fidanzato ex fidanzato e spesso dai media è stato sottolineato questo aspetto già da chi mi ha preceduto spesso dei media viene pubblicizzato viene comunicato questo questa drammatica evento come un raptus come un qualche cosa di come un evento che costituisce una situazione emergenziale una situazione peculiare particolare di quel dato di contesto familiare spesso familiare in realtà io credo che sia un fenomeno strutturale e come tale debba essere affrontato sia sul piano legislativo sul piano giurisprudenziale ma prima ancora come è stato molto ben sottolineato da chi mi ha preceduto sul piano culturale un secondo aspetto vorrei molto brevemente tratteggiare che è quello relativo alla giurisprudenza e all'approccio che gli avvocati hanno quindi sia la magistratura che l'avvocatura con riferimento allo stupro che ancora oggi magistrati e avvocati hanno con riferimento allo stupro cosa intendo dire intendo dire che occorre fare molta attenzione perché le donne violentate che subiscono una aggressione così grave come può essere uno stupro subiscono spesso una vittimizzazione secondaria ossia che cosa il fatto che durante il processo vengono poste paradossalmente sul banco degli imputati perché vengono valutate le condizioni nelle quali la donna era nel momento dello stupro se era vestita in un certo modo se aveva adottato determinati condotti qual era qual era la sua orientamento sessuale la sua condotta sessuale e questo è gravissimo perché pone la donna dinanzi appunto a questa vittimizzazione secondaria che deve essere a mio modo di vedere assolutamente evitata e lo si può evitare con l'attenzione da parte del mondo del diritto e dell'avvocatura da un lato che deve evitare di adottare determinate linee difensive tali appunto da strumentalizzare la condotta della donna che deve essere libera di comportarsi come crede così diceva Tina da un lato e dall'altro lato nei confronti dei magistrati che debbano usare fare molta cautela molta attenzione all'usare espressioni o valutazioni moraleggianti che sono state di recente anche stigmatizzate dalla stessa Corte Europea del diritto dell'uomo che più volte ha condannato il nostro Stato per le espressioni adottate da magistrati nelle proprie sentenze laddove si fanno valutazioni in ordine alla condotta morale sessuale della donna appunto con una con delle valutazioni che attengono ad una dimensione intima privata e con tratti moraleggianti che secondo la giurisprudenza della Corte Europea e anche al mio modo di vedere il mio modesto modo di vedere non può non possono costituire oggetto di una valutazione all'interno di una sentenza concludo dicendo quindi che occorre lavorare molto prima ancora su un piano culturale per evitare che questi fenomeni si verifichino e questo e quindi incontri come quello di oggi sono molto importanti per diffondere una sensibilità è un'attenzione rispetto a questi temi che deve attraversare in maniera appunto traversale la nostra cultura l'università la scuola la dimensione del foro quindi la vocatura e la magistratura e direi anche i media perché è molto importante il ruolo che i media e social media in particolare ma direi in generale tutti i mezzi di informazione assumono in questo ambito grazie alla professore veramente ringrazio tantissimo molto interessante il suo intervento il professor Antonio Giulio Lana per questo appunto intervento veramente esaudiente ora ascoltiamo la coordinatrice Antonietta la collega avvocata colgo al volo il messaggio del presidente Lana che ringrazio per condividere con voi una informazione più tardi parleremo ancora della giurisprudenza della corte di Strasburgo delle iniziative del Consiglio d'Europa mi piace però anticiparvi il fatto che sul sito dell'Unione Forense per la tutela e i diritti umani trovate ogni genere di informazione ma soprattutto una newsletter dove vengono puntualmente indicate alcune perle di saggezza diciamo così alcune informazioni alcuni comunicati stampa e ci sarà nella prossima newsletter che uscirà la prossima settimana proprio un commento all'ultima sentenza della corte di Strasburgo che tratteremo però più tardi con i relatori e parlando della corte di Strasburgo mi piace dire che per la prima volta nella storia in questo momento la corte di Strasburgo ha una presidente donna così come la corte costituzionale italiana per la seconda volta nella sua storia una presidente donna per cui diciamo che possiamo incominciare questi lavori con un'attenzione alla dignità della donna al ruolo sociale della donna e agli spazi anche nell'ambito del lavoro della donna e quindi un riconoscimento di quelli che sono i suoi diritti poiché so che i nostri ospiti che hanno aperto i nostri lavori hanno una contemporaneità di impegni professionali se mi consentite con il vostro saluto ringrazio il signor sindaco il prorettore e il nostro monsignore di essere stati con noi e del loro augurio e li salutiamo grazie salutiamo anche il presidente lana se crede o se rimane in collegamento con noi ci fa piacere e grazie grazie c'è un cambio di posizioni in questo momento quindi prima di passare alla seconda parte dei lavori invito gli altri relatori a prendere posto e anche con dei cambiamento di nomi per cui la collega al centro il dottor Zolo la invitiamo a prendere posto la dottoressa Malesa la invitiamo da quella parte sistemiamo anche l'assessore Meazza adesso cedere anche il posto questa organizzazione tecnica mi piace moltissimo in questo momento di dove il microfono non sappiamo dove assessore Meazza la invito a venire vicino a me perché le cederò pensi un po' il mio microfono però mi deve semplicemente consentire tre secondi benvenuto mi deve consentire solo tre secondi di spostarmi per andare avanti con i lavori soprattutto per dare invece il benvenuto alla dottoressa delle unibus che sta in collegamento fra noi io ascolterei fra i nostri relatori per prima la dottoressa delle unibus ma datemi un attimo per spostarmi di microfono per fare la presentazione della dottoressa delle unibus ringrazio la dottoressa delle unibus per aver accettato il nostro invito e per aver voluto mantenere questo collegamento che non solo telematico fra me e lei ma ci ha visto protagonisti diciamo così di celebrazioni di giornate dedicate a questo tema in tantissime occasioni la dottoressa delle unibus in questo momento è collegata da Perugia ma ha un legame fortissimo professionale anche con l'università di Sassari con l'università di Cagliari quindi magari invito direttamente lei a presentarsi con i suoi collegamenti con la Sardegna io ci tengo a presentarla con il titolo di uno dei suoi libri che io adoro ho letto e rileggo in continuazione perché ha un titolo straordinario lo ha ripresentato i giorni scorsi negli eventi perugini e si intitola Libere di essere ecco il messaggio per me nel presentarla è proprio questo libere di essere di essere donne di essere così come siamo dottoressa grazie per partecipare a questa serata l'ascoltiamo volentieri grazie buonasera a tutte e a tutti e ringrazio in particolare l'avvocata Antonietta Confalinieri oltre che collega di molte attività professionali anche amica per avermi invitato ringrazio quindi l'Unione Forienza e l'Università e la Commissione Pari Opportunità del Comune e tutti i relatori che hanno fino adesso introdotto in maniera estremamente interessante questa giornata sono onorata di far parte di questo consesso di altissimo livello e rispondo anche alla questione che ha anticipato l'avvocata Confalinieri circa diciamo gli allegami professionali della Sardegna sono didatta e supervisor della scuola di formazione post laurea per psicologi che vogliono diventare psicoterapeuti che si chiama Sinapsi a sede a Cagliari e ho collaborato con la città di Sassari per una serie di eventi in particolare per la formazione di operatrici e operatori che lavorano con il mondo così vasto e enorme del terzo settore e appunto in queste circostanze abbiamo rifatto un po' di legame anche con l'avvocata Confalinieri e ci siamo interfacciate proprio su questo mio ultimo libro il titolo Libere di essere quando ho proposto il titolo alla cassa editrice io ho detto un punto interrogativo e l'editori mi ha detto guardi non si mettono a punti interrogativi sui titoli dei libri Libere di essere quindi al punto interrogativo perché al punto interrogativo io ho voluto insistere su questo l'editori ha ceduto gli editori poi alla fine ci seguono se siamo motivati e ho voluto insistere perché senza punto interrogativo significherebbe che siamo già come donne liberi di essere e invece se fossimo state ancora in percorso e siamo ancora in percorso ma siamo davvero liberi di essere anche oggi anche in Italia anche nel 2000 perché è proprio questa la domanda che occorre porsi rispetto appunto a tutte le tematiche che riguardano la violenza di genere perché appunto la violenza di genere come è stato sottolineato molto bene è una violenza culturale culturale significa che non ha a che vedere con comportamenti di singoli e basta ovvero dietro il comportamento del singolo c'è una serie di dispositivi culturali che hanno costruito il terreno sul quale poi la violenza di genere mette le sue radici il primo di questi dispositivi è definito in termini di ricerca psicologica sociologica dall'androcentrismo cosa è l'androcentrismo è riassumibile in una formula molto semplice masche e medio siamo al di là di quello che viene defendo il sistema patriarcale siamo in un sistema culturale dove in qualche misura le differenze tra i generi sono diventate gerarchie e gerarchie significa che c'è un genere che è in una posizione di supremazia rispetto all'altro questo è stato vero fino a lo ha ricordato prima il presidente dell'Unione Forense è stato vero fino a pochissimi decenni fa anche in termini giuridici degli anni 70 che nella famiglia c'è diciamo riconosciuta definitivamente la pari responsabilità dei genitori altrimenti si stengono prescritti di ben altro tipo è presente questo androcentrismo nelle professioni a livelli molto alti delle cariche istituzionali le vediamo costantemente sono soltanto pochissimi anni viene da ricordare pochissimi stanti fa appunto da una dotata di un palloniere che ai più alti concessi sono pochissimi anni che siedono donne perché maschio e neve perché delle differenze appunto è stata fatta una gerarchia e questa gerarchia è il terreno di cultura nel quale prospera la violenza di genere in tutte le sue forme dalle più invisibili alle più visibili gerarchia che fino a quando non viene contrastata fino a quando diciamo viene obbedita fino a quando ci si adegua alla quale non pone problemi il paradosso è che proprio quando questa gerarchia viene messa in discussione allora ci sono i protesti dei declansi trigger point per la violenza di genere noi possiamo immaginare questo grande discorso molto molto ricco molto delicato molto forte sui temi della violenza di genere immaginando un iceberg l'iceberg ha una parte nascosta e una parte visibile nella parte nascosta esistono le forme sottili le forme invisibili di violenza professa la interrompo perché se riesce a posizionare diversamente il microfono la voce arriva meglio perché siamo in una sala un po' grande per cui vediamo se si funziona meglio sembrerebbe proviamo bene allora facciamo questo dicevo appunto che noi possiamo immaginare di trattare il tema della violenza di genere attraverso un'immagine che è quella di un iceberg l'iceberg ha una parte sommersa e una parte emersa di solito la parte emersa è molto più piccola molto meno grande della parte sommersa nella parte sommersa troviamo tutte le forme sottili invisibili della violenza di genere troviamo quelle forme che per esempio cominciano con l'indisibilità con il fatto che le donne non sono rappresentate a livello sociale che rinunciano molto spesso ad essere soggetti socialmente attivi la parte invisibile riguarda anche il linguaggio sessista nel linguaggio sessista noi intracciamo delle forme e delle formule che attengono poi al processo di pensiero tutte le volte che si pensa per esempio il nome di una professione che può essere svolta da un uomo o da una donna e si pensa al maschile come nome della professione anziché al terminale noi stiamo immaginando che quella donna che svolge quella professione sta usurpando imposta e questo è molto forte come il ragionamento perché nel momento in cui il linguaggio lo assumiamo come un determinante una determinante dei processi di pensiero noi sappiamo che il linguaggio struttura il pensiero il linguaggio non struttura soltanto il pensiero struttura anche le immaginarie perché nel momento in cui io dico un ingegnere o in mente qualcuno magari con il spettacolo il libro magari anche il maglione ma comunque con un aspetto maschile e poi dentro questa qualifica ci compare la ingegnera che si fa chiamare ingegnere e ho nella mia percezione l'idea che quella donna non stia occupando un posto delle tempere ma un posto delle tempere un posto nel quale è ospita di una livella delle ipotesi o usurpatrice nella pensiero diceva se dico la maestra nessuno si preoccupa perché la maestra strutturamente è sempre stata donna ugualmente l'interiniera ugualmente della fuoca ugualmente la babysitter e tutto tanto nel qualsiasi quindi se noi immaginiamo che il linguaggio struttura le immagini mentali e che dalle immagini mentali poi dipendono anche le emozioni che ci si correlano ovvero di credimento o di tranquillità ovvero anche di sospetti di allarme e poi immaginiamo che dall'emozione dipende al comportamento delle persone perché assolutamente siamo motivati anche da fattori emotivi noi vediamo molto bene quella di importanza che ha il linguaggio sessista e in che modo tutto questo per esempio costituisce uno degli elementi fondativi della violenza di cellulare sempre nella parte invisibile del nostro iceberg troviamo altre cose troviamo per esempio la tendenza a controllare controllare per esempio il corpo delle donne il corpo delle donne è un spazio politico per eccellenza a cominciare dal controllo sulla riproduzione al controllo sulla sessualità femminile dalla doppia morale che in cui si è sempre guardato per esempio alla esperienza della sessualità femminile anche a livello scientifico sono appena un po' di 50 anni dove si parla di sessualità femminile è la grande negazione dei millenni precedenti ma il controllo sul corpo delle donne anche il controllo è il suo comportamento che attiene al corpo quindi sull'abito sulla esposizione del corpo e il controllo sulla forma e sulla taglia del corpo abbiamo visto di recente nell'ambito dello sport quanto questo controllo che si chiama greca può produire risultati devastanti per le giovani e mi ha tenuto quindi il controllo riguarda questo ma riguarda anche per esempio una parte delicatissima della violenza di genere che è la violenza finanziaria la violenza economica quante donne possiedono un conto corretto in Italia un terzo sembra un dato assurdo ma reale la non disponibilità di un proprio conto bancario prendere donne immediatamente dipendenti anche per le spese più semplici dal partner lo sappiamo il gender pre-act quanto è importante e questa differenza parità di finzioni e di mansioni è davvero difficile da giustificare nel terzo millennio quello che accade poi è che questo controllo si espande a tutte le sfere della vita personale faceva menzione poco fa la votata dell'anna delle vittimizzazioni secondarie che subiscono le donne quando per esempio denunciano una violenza e questo succede perché in qualche misura viene controllata la vita privata della vittima ecco il reato in questione è uno dei posti nei quali viene indagata la vittima anziché con il reato più pratico indagare la vittima è veramente un paracorso spiritico ma non si indaga un panettiere per aver esposto i pari e poi chiaramente magari un topo se l'ha mangiato o il giochialdiere per aver messo il giochialdiere in vetrina invece una donna è indagata per le sue condotte in cui è vittima di una violenza che fa c'era in quel luogo come mai lo spiega così bellissima la formula di quel collettivo femminista cileno che qualche anno appena prima della pandemia ha inventato quel magnifico slogan che poi è stato ripreso anche in Europa di la culpa non è la mia né dove stava né come vestia e l'adore è molto forte perché rimanda alla definizione chiara di vittima è carnetta perché un'altra cosa che succede è che la vittima si crede corresponsabile del problema perché un altro aspetto invisibile della violenza di genere è l'immiliazione la svalorizzazione la colpevolizzazione il disprezzo siamo nell'ambito della violenza psicologica che correggetemi sono confesso di lì non mi esuca sia considerata reato se non quando è una minaccia e quindi è chiaro che dentro questo spazio molto grande c'è lo spazio per far sì che l'autostima la sicurezza in se stessa della donna che diventa vittima di violenza psicologica crolli vertiginosamente a causa delle costanti svalorizzazioni umiliazioni colpevolizzazioni a cui è sottomessa per cui appunto poi succede una cosa molto drammatica assai drammatica e che è la seconda la donna entra in un circolo di auto immigrazione tutta la sua attenzione deve concentrare l'interno ad evitare che la persona violenta il marito il partner il sistema come appunto nell'ordine del marito del partner a volte il datore di lavoro a volte l'ex partner ad evitare che la persona violenta possa arrabbiarsi per cui il corizzonte si chiude intorno al tentativo di controllo di quello che è indesimilabile che avviene e in tutto questo è certamente la sua vita e i suoi interessi il suo lavoro le sue motivazioni esistenziali vanno in secondo piani e soprattutto nel momento in cui poi subisce la violenza si rende si riempita colpevole di una dessa più verità proprio in questi giorni una persona la donna mi ha contattato per una situazione di questo genere mi capita quasi ogni giorno purtroppo dove appunto lei si ritiene colpevole non solo del fatto che il marito è alcolista quando è in condizioni di alcoolenia a età diventa violenza rompe i leggetti picca al figlio e tutto il resto ma si rende responsabile pure del fatto che lei non riesca a farvi smettere di bere e quindi in qualche modo tutte le violenze che lui perpetra sono responsabilità propria di lei come donna questo rivecciamento della responsabilità è un fenomeno estremamente gravissimo che poi chiaramente rende la donna immobile di fronte a violenze ben più gravi gravi per esempio più visibili più esposte più esplicite che sono appunto la minaccia l'urlo l'insulto l'aggressione sessuale l'aggressione fissica fino al femmino cibo in mezzo a tutto questo c'è questo passaggio questa terra e di nessuno questa è una grigia dove la violenza è psicologica è economica ma anche istituzionale parlavamo prima appunto dell'ottimizzazione secondaria parlavamo anche di quanto per esempio a livello educativo ci sia ancora scartissima attenzione al sviluppo di un rispetto per le differenze allo sviluppo di condizioni per la parità di genere effettiva ecco tutto questo ci dice quale sia e quanto sia vasto profondo e grande il terreno di cultura della violenza purtroppo c'è dentro questo edificio della violenza una colonna portante anche belle colonne portanti molto forti molto difficili a scardinare che sono gli stereotipi effettiva faccio la prima menzione l'avvocata conto alle nere nella sua introdizione di Samantha Cristo Floretti che l'ingegnera spaziale Samantha Cristo Floretti non solo è stata come dire svalutata in quanto madre perché le madri non lasciano i bambini i padri ma è stata invalutata addirittura perché aveva capelli dritti una scelta di gravità e chiaro i capelli stanno dritti e quindi i giornalisti si sono proligati a dire ma perché non si ha messo una punta un perfezio qualche cosa ecco lo stereotipo lo stereotipo un'ingegnera aerospaziale che comanda la stazione europea deve essere dedicata a quegli abitatori non per le sue competenze non perché parla cinque lingue non perché tutto il mondo la stima non l'apprezzano ma perché ha tappo i bambini ecco lo stereotipo lo stereotipo è ciò che conforma gli accessi di pensiero lo stereotipo gli stereotipi di genere sono le quali dentro le quali siamo vissuti tutti e non le vediamo più come pesce non vedono l'acqua per cui il primo lavoro per il contrasto all'agerenza di genere tra la formazione ovviamente delle forze di polizia dei tribunali delle forze dell'ordine in generale degli insegnanti degli assistenti sociali non parlano di quanto andrebbe un pochino più tematizzato questo discorso abbiamo sentenze importanti su questo ma ecco oltre a tutto questo c'è da fare un lavoro grande radicale di decostruzione degli stereotipi di genere il linguaggio il linguaggio di genere è uno dei modi per questo problema poi ci sono ovviamente l'immaginario pubblicitario c'è l'immaginario cinematografico l'immaginario e le fiction televisive ecco tutti i veicoli attuali degli stereotipi di genere e tutti i giornali possono essere altri spazi per superare queste che sono per decostruire e per strutturare le colonne dell'andre centri grazie grazie dottoressa il primo step quindi è riconoscere la violenza perché è soltanto quello il momento in cui poi riusciamo a fare dei passi successivi se credo dottoressa può rimanere collegata con noi o sino al momento in cui i suoi impegni professionali la chiameranno in altri spazi mi piace semplicemente in questo momento prima di passare poi a sapere che cosa fa il comune di Perugia e quindi anche ero sicura che l'avrei detto dopo 25 anni a Perugia lavorando con il comune di Perugia oggi mi sono detto non lo dire non lo dire eccolo ho lavorato per 25 anni per il comune di Perugia a tutela delle donne quindi mi è venuto assolutamente naturale in collegamento con Perugia dirlo quindi sentiremo invece l'importanza del centro Aurorea a Sassari che esiste da tempo la violenza psicologica soprattutto porta poi a quei fenomeni che non rientrano nel conteggio delle violenze delle donne che sono i suicidi delle persone che non riescono più a reggere certe situazioni psicologiche quindi aggiungiamo in tutto questo anche questo piccolo spazio che rimane tutto sommato invece in ombra e allora consentiamo alle donne di uscire dall'ombra Assessore Merza con immenso piacere e con grande interesse ascolto il lavoro del comune di Sassari grazie 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 a lei avvocato collega e grazie alla commissione per opportunità la presidente a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questo importante evento di questo importante convegno un ringraziamento a tutti i relatori autorevolissimi i relatori credo che proprio la presenza anche delle stesse autorità di tutte le autorità istituzionali militari civili e anche religiose abbiamo sentito anche i saluti dell'eccellenza dell'Argiresco credo che il contributo di tutti possa aiutare a mettere a fuoco il tema della violenza sulle donne quindi usciranno sicuramente delle riflessioni ne sono già uscite diverse riflessioni da quello che appunto si diceva sebbene l'ultima parte ho avuto un po' di difficoltà nell'ascolto però ho colto le cose fondamentali dette poc'anzi che cosa fa il Comune di Sassari il Comune di Sassari mette in campo diverse iniziative su questo aspetto io lascio lascerò qui la parola al Dottor Sulinas che vi declinerà diciamo l'elenco delle iniziative importanti che il Comune fa lo fa su Sassari ma lo fa anche nell'ambito plus nel senso che noi lavoriamo come servizi sociali per dei servizi che offriamo al territorio quindi compreso Prodottores compreso Stintino compreso Sorso quindi abbiamo delle risorse che poi utilizziamo per pianificare dei progetti importanti tra cui anche questo della protezione delle donne adesso stiamo anche lavorando abbiamo dato indicazioni come consiglio comunale vedo che ci sono anche dei consiglieri comunali in questa bellissima aula approvata all'unanimità una mozione per fare in modo di avere anche un'altra casa accoglienza oltre a quella a quella che attualmente esiste da oltre 20 anni e mi permetto anche di dire che è una iniziativa nata nel 2000 proprio grazie allora al professor Campus che allora era sindaco io ero già assessore ai servizi sociali in 2000 proprio nel 2000 nasce Casa Aurora ora Casa Aurora è una casa insomma ben organizzata articolata e ripeto sarà il dottor Sulinas a darvi tutte le indicazioni sia delle iniziative su Casa Aurora ma anche su quelle collaterali tra cui il reddito di libertà io che cosa posso dire permettetemi di fare solo una riflessione veloce partendo proprio dalle riflessioni che sono state illustrate poc'anzi si diceva il problema culturale cioè la violenza sulle donne il tema della violenza sulle donne è fondamentalmente un tema di tipo culturale questo non significa ovviamente che non si debba interruire a livello normativo a livello penale processual penalistico però la norma non basta perché la cultura viene prima della norma viene prima della legge e lo dice la storia se voi pensate che la problematica della violenza sulle donne è una problematica che attraversa non è che attraversa attraversa le civiltà dalla civiltà persiana la civiltà grecca la civiltà romana saliamo sul medioevo poi sul giusnaturalismo cioè nell'ottocento la situazione cambia si introducono i diritti delle persone però malgrado la introduzione dei principi di parità il giusnaturalismo quindi malgrado la norma malgrado la legge prevale la cultura e qual era la cultura era la cultura del patriarcato la cultura della supremazia del corpo del maschio nei confronti della donna e questa è una cultura che ha attraversato le civiltà questo che significa significa che anche se noi introduciamo una legge se anche ne introduciamo un'altra la rimodifichiamo è evidente che se noi non cambiamo le menti non cambiamo la cultura delle persone il problema oddio penso che difficilmente si possa si possa risolvere d'altronde vi faccio un passaggio e lo diceva poc'anzi il collega noi abbiamo la costituzione del 1948 che introduce i principi dello schema paritario uomo-donna evidente espressione del principio del giusnaturalismo ma abbiamo dovuto attendere il 1980 per l'abrogazione del delitto d'umore il 1980 abbiamo dovuto attendere il 1990 perché si riconoscesse il reato sessuale come reato contro la persona e non contro la morale e non contro il costume quindi immaginate la cultura millenaria direi mitica mitica pensate pensate a Bandora oppure biblica pensate a Eva cioè ha attraversato le civiltà tutte le civiltà compresa quella moderna rispetto fino al giusnaturalismo e malgrado tutto mi permetto di dire anche che oggi se noi non superiamo questo schema di modello sociale questo schema che noi viviamo di modello sociale che è connotato da un atteggiamento esasperatamente individualistico delle relazioni con gli altri io lo vedo l'assessore servizi sociali noi abbiamo a che fare ve lo dirà anche il dottor Solinas noi abbiamo a che fare con famiglie fragili fragilissime perché non siamo capaci di gestire i rapporti soprattutto i rapporti emotivi ecco perché occorre cultura ma non solo cultura educazione cioè noi dobbiamo insegnare i ragazzi questo è il punto noi dobbiamo insegnare i giovani i ragazzi come si vive la relazione di coppia perché non ci può essere un impossessamento di un corpo perché impossessarsi del corpo significa impossessarsi delle emozioni degli affetti se voi io mi è capitato durante esperienza professionale a volte di leggere i verbali ma sono è un denominatore comune nei verbali di interrogatorio ho delle persone formate sui fatti che racconta la vittima racconta ero terrorizzata ma non riuscivo a lasciarlo non avevo la forza di lasciarlo oppure lui che si giustifica dicendo sì ma avevo paura che mi lasciasse che mi abbandonasse vedete la logica la logica è quella per la quale il rapporto non è un rapporto paritario è un rapporto di individuo cosa cioè di individuo che si deve impadronire della cosa cioè di un oggetto quindi della consumazione dell'oggetto adesso io non voglio andare oltre questo aspetto ma ve lo introduco questo elemento per farvi capire che quello che possono fare le istituzioni cioè noi come piccolo comune come il nostro dico piccolo non è tanto piccolo perché comunque facciamo cose importanti però dico i comuni dovrebbero introdurre dei progetti di educazione i comuni ma a monte la regione e anche lo stato centrale introdurre dei progetti educativi ma più che di educazione della sessualità in termini scientifici cioè in termini anatomici bisognerebbe insegnare l'educazione della sessualità nei termini di quanto è importante oggi l'emozione il desiderio il fatto che non si può avere tutto nella vita che il giovane si deve anche il ragazzo deve anche capire che potrebbe non esserci una reciproca corrispondenza di quell'affetto ecco i giovani d'oggi non sono abituati a questo i giovani d'oggi sono abituati ad avere uno schema individuo cosa consumazione della cosa questo schema voi pensate solo ai siti ve la dico qui i siti pornografici che vanno sono di una come dire di una diffusione enorme eppure c'è una sessualizzazione della donna esasperata portata all'eccesso e questo che cosa provoca provoca una una prevalenza del cervello più primitivo più animalesco che porta ad impadronirsi del corpo della donna ecco allora cosa deve fare il comune deve portare avanti dei progetti a livello culturale a livello sociale per proteggere le famiglie soprattutto i giovani adulti che ci sono tantissimi e sono fragili e quindi introdurre degli schemi culturali per insegnare che bisogna vivere il rapporto in maniera paritaria in maniera reciproca che ci si deve anche abituare al fatto che quel desiderio che magari nasce all'inizio nasce come eterno cioè ognuno si innamora pensa che le cose nascano per sempre e poi alla fine si scopre ecco che bisogna avere la forza emotiva per capire che quel desiderio seppure all'inizio nasce vertiginosamente per sempre e poi può cessare può finire ecco i ragazzi devono imparare questo il ruolo della scuola e della famiglia ma a monte delle istituzioni quindi il potere pubblico deve servire a insegnare queste dinamiche di relazioni tra gli uomini tra i giovani tra i ragazzi in modo che si possa anche imparare il lutto il distacco la separazione perché chiaro che quando c'è la cessazione del desiderio c'è il distacco quindi bisogna essere emotivamente pronti e forti per reggere l'urto dell'eventuale distacco e quindi della come dire del disagio o anche del dolore pertanto io mi scuso se ho fatto questa digressione spero che di non avervi annoiato noi ce la stiamo mettendo tutta come servizi sociali e lo sta facendo anche l'assessorato alla cultura portando avanti dei progetti importanti con questa finalità nel piccolo evidentemente nel piccolo di un comune che gestisce comunque risorse sono importanti per l'intero ambito plosso ci tengo veramente che voi possiate sentire il dottor Solinas che vi dirà in concreto quali sono le azioni le iniziative che noi in campo oggi stiamo facendo per proteggere le donne che hanno subito violenza violenza di ogni tipo perché non è solo la violenza non è solo la violenza fisica ma anche la violenza psicologica la violenza morale e io vi ringrazio e ascolterò con molto interesse tutti gli altri interventi grazie grazie a sottore protezione e prevenzione e sono due delle P della convenzione di Istanbul e proprio per questo vorrei dare vorrei ascoltare in questo momento cerco lo sguardo di conferma alla dottoressa Casu che presento con il suo titolo preciso che è dirigente dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della questura di Sassari grazie mi presento mi presento appunto io sono dirigente dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della questura di Sassari è un piacere oggi essere qui per raccontarvi quello che fanno quotidianamente i poliziotti in particolare i poliziotti della questura di Sassari per affrontare purtroppo questo fenomeno anche in maniera giornaliera l'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della questura generalmente è il primo ufficio con cui si instaura il contatto con le vittime della violenza di genere il nostro contatto avviene tramite due articolazioni che sono l'ufficio denunce e la squadra volante si tratta però di due approcci differenti perché quando la donna si presenta all'ufficio denunce c'è già una donna che ha deciso di rivolgersi a noi quindi di base il nostro compito sarà quella di accoglierla di ascoltarla e di avviarla verso un percorso che la porterà ad uscire da quella situazione diverso invece è il caso in cui il contatto avvenga perché interviene la squadra volante la nostra squadra volante interviene nell'emergenza quindi quando la squadra volante interviene interviene perché è stata chiamata tramite la nostra app YouPoll oppure tramite una chiamata su linea sui due tredici la chiamata può venire dalla donna ma può anche venire da parte di conoscenti passanti vicini di casa diciamo che in questo caso la diversità sta proprio nel fatto che è la volante ad andare dalla donna quindi quando la volante arriva la particolarità il nostro operatore della volante sa già che si troverà di fronte una donna che probabilmente non sarà disponibile a raccontare quello che è successo o comunque si tratterà di una donna che non è consapevole che la condotta che ha subito integra una fatispecie di reatto o ancora la donna si troverà in uno stato psicofisico che non le consente di instaurare un dialogo con noi quindi a questo punto i nostri poliziotti sanno già però che dovranno gestire l'intervento secondo delle procedure standardizzate che ci consentono su tutto il territorio nazionale di aumentare gli standard di tutela quindi il minimo insomma l'azione minima che farà l'operatore della volante sarà quella di andare a implementare la banca dati scudo che è una banca dati interforze quindi riguarda tutte le forze di polizia e ci consente di andare a valorizzare determinate situazioni di pericolo anche se in costanza di intervento non vanno a integrare o comunque a delineare delle fatispecie chiare di reatto diverso sarà il caso in cui invece già possono essere delineate delle situazioni di insomma penalmente rilevanti quindi gli operatori stanno benissimo che dovranno compiere tutti gli atti relativi all'attività di polizia giudiziaria questo aspetto comunque non esclude un altro aspetto importantissimo che riguarda l'assistenza e il soccorso alla vittima quindi il nostro intervento non si concluderà semplicemente affidando ad esempio la donna al pronto soccorso chiederemo ad esempio di essere informati per sapere dove andrà quella vittima nel momento in cui lascerà all'ospedale si avrà bisogno della nostra assistenza per recuperare i suoi effetti personali magari dall'abitazione che condivide col suo aggressore a diciamo suggellare le nostre istruzioni operative quindi insomma le nostre linee guida per operare c'è un principio fondamentale che la volante non lascerà mai il luogo dell'intervento prima che si sia assicurata che per quella donna non persistono pericoli questo assugello io ho pensato oggi di condividere con voi due interventi che sono stati affrontati dalla squadra volante della questura di Sassari durante questo anno sono due interventi molto differenti il primo nasce a seguito di una chiamata su linea 113 da parte di una donna che ci chiede di andare a casa sua perché ha avuto un litigio col marito e il marito ha avuto un atteggiamento aggressivo quindi la volante arriva arriva subito perché se ci arriva una chiamata una richiesta di intervento di questo genere la chiamata assume la massima priorità la volante arriva e la donna subito accusa un malore quindi in prima battuta viene ovviamente richiesto il soccorso da parte del personale del 118 successivamente una volta che la situazione si è ristabilita la signora riesce a instaurare i nostri poliziotti riescono con lei a instaurare un dialogo dal quale conferma chi ha richiesto l'intervento dei poliziotti proprio perché ha avuto un litigio col marito però nel corso del dialogo emerge anche che in realtà questo comportamento aggressivo che l'uomo ha avuto nei suoi confronti non è un episodio unico ma è una condotta reiterata che va avanti dal 1987 e stiamo parlando del 2022 la donna ci fornisce una descrizione molto dettagliata delle condotte che ha subito ci parla di percosse anche quando teneva in braccio i figli neonati di sputti di continua offese alla sua dignità femminile e di privazione della libertà economica ci dice anche che si in passato qualche volta ha presentato querela però poi ha sempre rimesso questa querela fondamentalmente perché il marito le prometteva che sarebbe cambiato il nostro intervento in questo caso si è concluso con un arresto in flagranza di reatto per maltrattamento in famiglia quindi a seguito della convalida gli è stato applicato l'allontanamento della casa familiare e questo è il primo un altro intervento invece è un intervento un po' più particolare nasce una domenica pomeriggio in una via centrale della città di Sassari quindi veniamo chiamati su linea 113 da dei passanti che ci segnalano una lite tra due ragazzi quando la volante arriva non si è arrivato allo scontro fisico perché fra i due ragazzi si è frapposta una ragazza il nostro intervento in questo caso si conclude con una denuncia con due denunce in Stato di Libertà per un porto di oggetti atti ad offendere la ragazza riporta delle lievi escoriazioni alla mano quindi i poliziotti le consigliano di recarsi al pronto soccorso e poi presentarsi presso i nostri uffici l'ufficio denunce per presentare querela effettivamente l'indomani la ragazza si presenta presso il nostro ufficio denunce per presentare una querela per lesioni personali lesioni che sono state quantificate in cinque giorni in questo caso però la nostra poliziotta ha instaurato con la ragazza un dialogo all'esito di questo dialogo è emerso che i due ragazzi che insomma erano in procinto di scontrarsi uno era l'ex fidanzato della ragazza e l'altro invece l'attuale fidanzato la ragazza ha lasciato il suo precedente fidanzato perché tra loro si era creato un rapporto che non era esattamente sano lui aveva un atteggiamento molto possessivo nei suoi confronti e cercava quindi di allontanarla dai suoi effetti effetti più cari ci racconta quindi che la riempie di messaggi di chiamate e anche di minacce quindi la sera precedente si erano incontrati per chiarire la situazione il dialogo però prosegue e la ragazza ci racconta che rispetto alla sera precedente quindi il nostro intervento più o meno era della domenica verso le 19 a quel momento in cui la ragazza si è presentata al nostro ufficio denunce quindi stiamo parlando del lunedì pomeriggio il suo ex fidanzato le ha fatto ben 90 chiamate questo per noi ha rappresentato ovviamente un campanello d'allarme perché 90 chiamate in meno di un giorno ovviamente non è stato ritenuto una condotta normale ci dice anche che mentre lei si trova lì all'ufficio denunce i suoi conoscenti le riferiscono che il ragazzo si troverebbe nei pressi della sua abitazione allora in questo caso l'ufficio denunce acquisito questa notizia ha dato l'informazione alla nostra sala operativa che ha disposto l'invio della pattuglia nei pressi dell'abitazione della ragazza dove effettivamente è stato rintracciato il ragazzo non residente a Sassari che non ha saputo giustificare la sua presenza sul luogo quindi considerata questa condotta considerata il contenuto della querela presentata il nostro intervento in questo caso quindi il secondo si è concluso con un arresto in flagranza di reatto per atti persecutori io adesso ho cercato di raggiungervi di insomma di sintetizzare due due casi che sono a mio giudizio abbastanza importanti anche perché in entrambi i casi abbiamo avuto un arresto in flagranza di reatto ci sono molteplici spunti di riflessione però ritengo che i più importanti quelli che tengo quindi a mettere in evidenza siano due perché da questi due esempi penso possa emergere la sfida quotidiana della polizia di stato che è quella di convincere le vittime di violenza di genere ad uscire dal proprio silenzio ma dall'altro penso anche che rappresentino l'impegno costante da parte nostra di andare ad analizzare e studiare ogni sintomo di violenza di genere in modo che noi possiamo esercitare quelle che sono le nostre prerogative esclusive sia in via preventiva che in via repressiva ma soprattutto in via depressiva ho concluso e vi ringrazio le ringraziamo dottoressa colgo l'occasione per evidenziare proprio la specializzazione da parte di tutte le forze dell'ordine che intervengono e che hanno costantemente modo di sviluppare queste capacità di ascolto di persuasione e di creare fiducia con le persone e con le quali entrano in contatto una specializzazione anticipo adesso ma sentiremo dopo che ha a che fare anche con la preparazione professionale della vocatura e anche della magistratura però mi sembra logico dopo il suo intervento ascoltare il dirigente Solinas perché molto spesso estrettamente collegato all'intervento immediato da parte delle forze dell'ordine c'è anche la necessità di capire dove mettere in sicurezza la vittima e magari anche la sua famiglia perché spesso le donne poi vanno via insieme con i figli dottor Solinas con interesse l'ascoltiamo buonasera a tutti volevo dividere in due parti questo intervento uno è la mera descrizione del progetto Orola cioè quello che il comune fa come interventi ma soprattutto fare una piccola analisi dei risultati di questa attività che ho fatto con gli operatori che non fanno altro che confermare quanto è stato detto trasversalmente negli altri interventi il progetto Orola abbiamo detto nasceva nel 2000 inizialmente inizialmente è stato gestito dal dal comune in maniera diretta dal 2007 è stato poi esternalizzato come collaborazione e ci si avvale di una attualmente una cooperativa che è la cooperativa Porta Aperta che è stata individuata mediante una selezione pubblica eccetera fondamentalmente il progetto Orola riguarda il centro antiviolenza che è anche uno sportello antistalking c'è una una sede a Sassari in via dei Mille è una struttura in cui possono afferire a titolo totalmente gratuito e indipendentemente da dove disiedono perché il comune di Sassari è in capo a questa operazione però il bacino d'utenza arriva sicuramente tutto non Sardegna ma anche da Cagliari da Oristano da altre parti qualora venga rilevato il bisogno da noi allora la quindi accoglie donne di tutta l'età e loro figli purché siano minorenni che abbiano subito violenza oppure si trovano esposte a una minaccia di violenza o distorting cosa si esplica si esplica in un'attività di ascolto che è la prima la prima presa in carico diciamo che può avvenire in vari modi c'è un collegamento con il numero 1522 che anzi in questi giorni ho visto stanno pubblicizzando in tv per cui a livello nazionale viene presa la chiamata e poi automaticamente viene dirottata al centro più vicino della residenza di chi ha segnalato e quindi arriverebbe a noi c'è un numero verde che può essere contattato altro modo per cui riceviamo le chiamate sono appunto le comunicazioni che ci fa l'autorità giudiziaria o le forze di pulizia quando riscontrano una problematica e poi ci sono le nostre quattro strutture di territoriali che una è in via Zara una in piazza Santa Caterina una è in via Washington e l'altra in via Bottego che nel corso della loro attività possono rilevare che c'è stata una che c'è una forma di violenza da tutelare quindi la prima parte l'ascolto la seconda è l'accoglienza cioè il portare dentro la persona all'interno del centro a fine di servire una consulenza un sostegno che non è immediato perché attraversa molti colloqui perché non è immediata la consapevolezza o la volontà di è un bisogno d'aiuto ma è un bisogno d'aiuto che è frenato c'è un'assistenza psicologica molto spesso da parte di chi dopodiché si entra in un percorso di assistenza psicologica che è individuale oppure tramite gruppo in cui ci sono un confronto fra varie persone che hanno la stessa problematica che è finalizzato a dare che cosa quindi a far emergere pienamente la consapevolezza di essere vittime di violenza di dare in supporto alle vittime e ai figli minori di orientarle al lavoro o a un inserimento lavorativo o un percorso formativo per renderle autonomi nel momento o perlomeno di dargli una certa autonomia nel momento in cui c'è un rinserimento e un orientamento all'autonomia abitativa perché se devono lasciare l'abitazione in cui vivevano col partner violento devono anche capire come orientarsi e poi una forma di contributo di cui parlava anche l'assessore che è il reddito e libertà che poi è quel reddito che serve per rendersi comunque autonomi finché non 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 trovano un altro modo poi c'è la casa di accoglienza la casa Aurora che viene in cui le vittime vengono indirizzate nelle situazioni più drammatiche quando è necessario un intervento di protezione e come diceva la dottoressa dietro un'opportuna valutazione del rischio si deve vedere se effettivamente l'unica alternativa è quella di poterle mettere in questa in questa casa che accoglie sia le donne che i loro figli minori è una struttura che fornisce alloggio sicuro è totalmente gratuita e gli ospiti vengono ricevute a prescindere dal loro luogo e residenza serve per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica fino a che anche qui la casa è autogestita dalle donne che si assumono la responsabilità diciamo che c'è un contributo nel senso che anche vito alloggio tutto quanto pagato e durante questa permanenza si attiva un programma un programma che serve anche qua per renderle progressivamente autonome o quantomeno autosufficienti perché possano arrivare a andar via e potersi creare una vita autonoma senza avere più niente a che fare con chi le le aveva dato le aveva creato questa condizione a prescindere altra azione che il progetto Rola sta portando avanti questa è molto importante perché ne ha parlato il professor Piana ne ha parlato l'assessore si sta facendo anche un'azione di promozione nelle scuole primarie nelle università con le associazioni culturali per soprattutto sui ragazzi per dare la consapevolezza che questo è un problema che va affrontato si parlava di questo proprio in quel convegno del 25 dove c'è proprio una reportistica di quello che sono stati i risultati degli interventi nelle scuole voglio invece a parte questa descrizione che è abbastanza assettica dare un pochettino di posso fare una domanda prima che lei passi alla seconda parte del suo tema come fanno le donne a chiedere il reddito di libertà devono fare devono comunque grazie perché trovo che sia chiunque di voi mi voglia rispondere è un messaggio importante che possiamo far partire da quest'aula sì grazie se forse è giusto chiarire il suo passaggio come diceva il dottor Solinas la casa accoglienza la casa aurora si occupa del servizio nella fase come dire emergenziale è una fase traumatica quindi è la fase dell'accoglienza e del supporto psicologico della donna e dei conicili minori che hanno subito violenza e quindi viene messa sotto protezione il reddito di libertà entra in gioco in una seconda fase che è la fase post trauma cioè è la fase nella quale l'equipi multidisciplinare deve creare le condizioni per un allontanamento definitivo dall'ambiente malsano e quindi occorre un percorso di reinserimento questo percorso di reinserimento viene fatto attraverso lo strumento del reddito di libertà quindi la donna deve presentare la domanda una volta che sta per finire l'esperienza presso la casa di accoglienza deve presentare la domanda questa domanda viene valutata dal nostro dai nostri dal nostro e dai nostri operatori psicologo e assistente sociale e questo reddito di libertà le consente di avere un contributo economico che insomma ci può attrare anche per un biennio in modo che possa essere autonoma sul piano abitativo economico e quindi si intraprene un percorso lavorativo per essere libera libera da quelle aggressioni morali psicologiche ecco quindi sono queste due step noi abbiamo anche denuncia soprattutto la parte economica fondamentale la suddittanza è quello che dicevamo prima della supremazia che viene espressa poi con il potere economico ecco che allora noi dobbiamo rompere questo legame perverso in modo tale che accompagniamo la donna in un mondo lavorativo autonomi insieme ai minori abbiamo messo a disposizione anche i contatti con numero di telefono e indirizzi in maniera che possano essere divulgati aggiungo a quello che ha detto l'assessore Meazza che a prescindere del reddito di libertà il comune attraverso il settore politico e della casa eroga anche dei contributi di affitto nel senso che se c'è un limite in reddito definito se c'è un contratto di affitto in essere il comune da un contributo comunque per poter avere una casa questo a prescindere lo dà a tutti quindi a tutti quelli che hanno requisiti chiaro che rientrano anche questi quindi volevo fare un po' l'analisi di essere un po' sintetico perché ho guardato l'orologio due minuti un po' di analisi di quello che è risultato in tanti anni di attività si rivolgono donne prevalentemente italiane diciamo 80% italiane 20% straniera nell'85% dei casi sono donne vittime di violenza fatta da partner o ex partner appartengono tutte le classi sociali la violenza non ha titolo di studio non ha livello culturale livello sociale per cui è trasversale diciamo che può essere più semplice risolverla per chi ha capacità economica come diceva la dottoressa sono ci si rivolte al centro di violenza donne di 70 anni che hanno subito per decenni violenza oppure anche ragazzini molto giovani che vengono indirizzati molto spesso dalle forze dell'ordine quindi trova conferma tutto denominatore comune è il fatto che sono persone limitate nelle loro azioni a cui viene impedito molto spesso di uscire di casa o di frequentare amici e parenti e che non hanno autonomia economica sono insicure perché si sentono quasi sono state inibite anche da prendere decisioni sull'educazione dei figli hanno paura di contraddire il partner per non fargli suscitare reazioni violenze la violenza psicologica è molto più frequente di quella fisica però è più insidiosa è più facile farla emergere rispetto a quella fisica quella fisica ne parlano con più vergogna addirittura dice no non è inviolento mi prende solo a schiaffi come se prende se è preso a schiaffi non fosse violenza però è una certamente gli operatori sono consapevoli che ci vuole molto tempo prima che la donna possa affrontare e parlare apertamente la propria condizione quindi perché si sente umiliata in questo caso loro definiscono un lavoro di attesa tanto sanno che prima o poi riusciranno a far emergere questa violenza quando hanno iniziato nel 2000 l'hanno definita un'attività di prevenzione terziaria cioè lavorare con le vittime quando ormai era emersa completamente la situazione invece adesso stanno lavorando molto sulla prevenzione primaria quindi collaborazioni col mondo della scuola l'università associazioni culturali e puntano molto a parlare soprattutto con le generazioni più giovani della violenza per costruire un modello culturale di non violenza e con la consapevolezza che la violenza non deve rimanere nascosta tra le mure domestiche ma deve essere considerata un problema sociale e il messaggio che vogliono far passare è questo qua chiaramente è un intervento molto laborioso quindi per concludere voglio dire un'altra cosa io sono responsabile del settore politiche sociali da poco più di un mese ho trovato un settore dove c'è un elevato livello professionale degli operatori ma non solo è elevato il livello professionale ma c'è anche un senso di attaccamento di visione lavoro che è veramente esemplare quindi c'è proprio quello che è ideale come aspetto quando tu devi soddisfare dei problemi della persona non della cosa e quindi ci vuole un'ottima efficienza in ogni ufficio ma ho trovato certamente certamente d'accordo grazie ci spostiamo adesso verso una riflessione di di altro tipo perché siamo arrivati tutto sommato dopo il primo intervento e la struttura dell'accoglienza al mondo della giustizia la donna la donna insieme a me con la famiglia la magistratura il dottor Zolo l'avvocatura l'avvocato Anna Marinucci ma c'è un anello di congiunzione che è stato messo in evidenza soprattutto dopo che è stata ratificata la convenzione di Istanbul che è l'attività di lavoro che viene fatta nei confronti degli uomini e la presa di coscienza nei confronti degli uomini la corte di Strasburgo quest'anno è intervenuta da da gennaio adesso tre volte sul tema della violenza domestica della violenza di genere di che cosa viene fatto da parte della magistratura di come si intervente l'ultima sentenza è proprio con riferimento all'attività che viene fatta dal tribunale dei minori e fra un attimo ascolteremo i due professionisti di questo spazio ma c'è un punto che secondo me io voglio mettere in evidenza stasera che è questo sul sito del Consiglio d'Europa nello spazio dedicato all'attività che viene fatta per rendere operativa in tutti gli stati del Consiglio d'Europa la Convenzione di Istanbul ci sono delle interviste che vengono catalogate sotto le tre P la P della protezione la P della prevenzione l'Italia compare con un'unica intervista con il centro di Firenze che è la sede nazionale del CAM e devo anche evidenziare prima di dare la parola alla dottoressa Malesa che l'intero sistema giustizia in parte lo spazio del Tribunale dei minori in parte il Tribunale ordinario ma soprattutto lo spazio della giustizia penale si sta spostando verso questa attività la dottoressa la presenterà con le parole più appropriate e io per adesso la chiamo semplicemente verso questa volontà di acquisire una nuova cultura di diventare consapevoli del fatto che quello che ci è stato insegnato sin da bambini oggi non è più accettabile e che essere donna non è una colpa ma soprattutto non è neanche un peccato mortale e che quindi tutti insieme si può assolutamente prendere consapevolezza che si possono fare dei percorsi che sono dei percorsi di crescita personale abbiamo parlato dei giovani ecco incominciamo con la cultura nelle scuole ma anche gli adulti a un certo punto si possono fermare e cambiare orientamento dottoressa Malesa ci racconti lei che cos'è il CAM e che cosa viene fatto adesso dal CAM perché poi come si entra nel processo penale lo diremo alla prossima puntata ma soprattutto il valore adesso di questa attività grazie grazie a voi di questo invito sono molto onorata ma anche molto emozionata sono anche molto emozionata soprattutto sono stata coinvolta da tanti passaggi di questa insomma dei relatori che mi hanno preceduto ma mi sono particolarmente coinvolta nelle parole dell'assessore Solinas quando descriveva la fatica io ho percepito e ho ricordato la fatica che le donne devono fare per uscire da una relazione violenta ma io ad un certo punto io nasco come operatrice di un centro antiviolenza per tanti anni ho ascoltato donne ma anche quando la rappresentante delle forze di polizia raccontava i due episodi io mi sono sentita ribaltata sia nel mondo che mi ha accompagnato prima di diventare presidente del CAM e pensare che invece la rieducazione degli uomini fosse fondamentale e dovesse essere messa al centro però mi sono anche rivista diciamo nell'ascoltare o nel leggere tanti atti giudiziari che ovviamente oggi ci con cui ci dobbiamo confrontare quando lavoriamo con gli uomini io so che il tempo stringe e so che ci sono tanti interventi quindi magari farò un po' con voi questo escursus di cosa facciamo qual è veramente il diciamo il cuore del nostro intervento lavorare con gli uomini autori di violenza e come si arriva a voi anche per come si arriva a voi io sarò breve nel fare proprio un bellissimo escursus anche un pochino storico di come nasce il nostro servizio il nostro servizio intanto nasce nel 2004 e nel 2014 veramente parlare di rieducazione di recupero di chi agisce violenza nei confronti delle donne sembrava veramente di parlare quasi in modo blasfemo perché l'uomo veniva visto soltanto come autore di reato quindi ovviamente in una delle P che era quella della punizione ma non veniva mai considerato e contemplata la possibilità che l'uomo invece dovesse essere messo al centro come autore di cambiamento e come fare questo leggendo insegnando agli uomini a leggere i propri comportamenti abusanti nel disvalore che questi comportamenti portano in sé ma anche nel nel danno che questi comportamenti provocano nelle donne che a loro stanno a fianco attenzione che adesso quando parliamo di donne nel 2014 quando noi abbiamo iniziato effettivamente gli uomini che raggiungevano il centro erano uomini autori di comportamenti violenti nei confronti di partner o ex partner e avevamo un range di età che stava tra i 40 e 60 anni oggi abbiamo uomini abbiamo intanto un range di età che ha divaricato questa forbice in un modo piuttosto significativo quindi abbiamo giovani adulti parliamo già di giovani che a 16 anni agiscono violenza nei confronti prima ancora che delle prime fidanzatine nei confronti delle madri questo per me è un grandissimo dolore non può essere questo spazio lasciato vuoto o soltanto affidato agli aspetti di applicazione della giustizia e poi abbiamo questo range così come dire si è ampliato anche in termini in eccesso perché abbiamo anche uomini di 70 anni che sono uomini che non solo si rendono colpevoli di agire violenza con le loro partner magari una vita di relazione 30 anni di violenza immaginate cosa succede nella mente di una donna immaginate anche quanto sia difficile intervenire culturalmente nella mente di un uomo che per 30 anni ha sentito come diritto fare esattamente quello che ha fatto il nostro non è un lavoro semplice è un lavoro estremamente complesso però è un lavoro che ha degli effetti assolutamente positivi e che comunque non può non essere fatto perché altrimenti queste donne e noi donne ma cosa tutto dobbiamo affrontare semplicemente per riprenderci un diritto che è nostro che se non vogliamo più stare con un compagno perché lo riteniamo violento o si è comportato in modo violento e vogliamo lasciare questo compagno ma perché dobbiamo denunciare entrare in casa protetta sradicarci dalle nostre abitudini famiglie affetti e nel fare questo portare con noi i nostri figli che è una violenza nella violenza per una donna andare a denunciare il padre dei propri figli non è mai la prima scelta certo è quella che tutti noi consigliamo io lo faccio ancora nella veste che ovviamente è nel cuolo che oggi ricopro però per le donne non è mai un passaggio semplice è una sofferenza immensa ecco perché a un certo punto noi io io per prima devo dire perché poi sono stata seguita devo dire la verità con molto interesse da tutte le collaboratrici che ancora collaboratrici e collaboratori perché il nostro staff è multidisciplinare e prevede sia operatrici che operatori ma perché parlo delle operatrici perché con loro con le quali ancora oggi lavoro e collaboro abbiamo lavorato insieme al centro antiviolenza quindi tutte noi nel fare questo passaggio abbiamo piena coscienza delle criticità e delle sofferenze che le donne devono vivere e devono affrontare semplicemente perché un uomo decide che il loro diritto di essere libero non può essere rispettato noi su questo non siamo d'accordo ed ecco su cosa si basa tutto il nostro lavoro se posso se posso io sono un po' de mode ho portato ho preparato pochissime slide ma proprio pochissime per portarvi un pochino ancora dentro il nostro mondo e quindi se posso mentre organizzano le slide io aggiungo che forse ora che la Carmen possa avere un finale diverso e sì perché la Carmen che noi tutti cantiamo e credo che sia una delle opere più conosciute in realtà viene uccisa esattamente nel momento in cui lei dice ma io sono una donna libera la libertà noi non la dobbiamo pagare con la vita non è un peccato originale essere donna esatto bene allora per fare questo non possiamo che spostare un pochettino la prospettiva e semplicemente affrontare il fenomeno della violenza su maschile sulle donne pensando che è un problema degli uomini infatti c'è una vignetta che mi è piaciuta e che ho voluto inserire perché è molto ironica però spiega molto bene quello che abbiamo appena detto si parla molto di violenza sulle donne e l'amica risponde così non si parla di violenza degli uomini in verità anche oggi abbiamo pensato quanto deve fare una donna cosa deve fare una donna cosa può fare una donna ma cosa può fare un uomo ma cosa deve fare un uomo questo effettivamente non è stato preso in considerazione perché dobbiamo portare l'uomo al centro della nostra attenzione e quindi la rieducazione dell'uomo qualunque età quest'uomo abbia perché anche se le donne si separano con quel faticoso percorso che c'è stato descritto che io ho sentito proprio nell'anima perché poi io quando intervengo intervengo sempre con due anime sono la presidente del centro ascolto uomini ma tra tanti ma sono stata una donna che ha lavorato per le donne per la libertà delle donne e continuo ancora a farla farlo in un modo semplicemente differente se la donna si separa non sempre si interrompe la violenza perché l'uomo nel momento in cui la donna entra in casa protetta fa la denuncia e quindi fa tutta una serie di cose che ahimè ancora per tanto tempo credo dovrà fare l'uomo può diventare più violento e quindi sia nella mia esperienza ma credo che ancora chi seguirà con gli interventi potrà testimoniare l'uomo tiene in pugno ancora la donna attivando magari nuove forme di violenza ad esempio gli atti persecutori molto spesso anche quando le donne sono in protezione gli uomini che non si rassegnano a questa fine di una relazione o la possibilità che la donna lo lasci non so perché le case sono protette ma gli uomini sanno sempre dove si trovano è proprio una cosa che io ancora non mi sono come dire spiegata però in verità saprei anche come fanno comunque in ogni caso la separazione se non c'è un intervento preciso specifico e professionistico non interrompe necessariamente la violenza anzi in tali casi la cuisce anche perché l'uomo in quel momento cova tantissima rabbia perché non comprendendo il perché di questo passaggio si incattivisce ancora di più infatti molte donne lo sappiamo anche dai fatti di cronaca proprio in questo passaggio di interruzione di una relazione pagano con la vita e questo ahimè è tristemente noto perché è importante lavorare ancora sulla cultura degli uomini perché esiste una trasmissione intergenerazionale della violenza chi assiste a comportamenti violenti quindi pensiamo ai nostri ai nostri figli a tutti i figli che stanno e che vivono relazioni violente sono come dire esposti a uno di quelli che noi chiamiamo fattori di rischio ma che tra i fattori di rischio è quello che più facilmente può portare un giovane appunto come abbiamo detto poc'anzi sono sempre più precoci i comportamenti violenti è quello che a me preoccupa tanto nei confronti delle madri ecco perché la trasmissione avviene ed ecco che i figli possono diventare violenti dico possono perché non c'è un'inferenza ovviamente proprio diciamo diretta però è devo dire tre fattori di rischi più importanti essere esposti a violenza può significare riproporre lo stesso linguaggio e se siamo donne può significare pensare che quello schiaffo lo possiamo accettare che quell'insulto può essere anche una cosa non proprio grave quindi lavorare sull'educazione la rieducazione degli uomini quindi interrompere quella cultura maschilista che poi porta ad agire un comportamento abusivo ecco che significa anche a questo valore quindi non soltanto interviene sulla donna ma interviene anche sui figli qui ho messo un'immagine a colori perché c'è un altro fatto molto importante i maltrattanti sono generalmente seriali qui ho messo spesso perché volevo essere ottimista in verità sono seriali cosa vuol dire se un uomo esce da una relazione e non ha fatto un percorso di cambiamento troverà un'altra donna con cui farà una nuova famiglia con cui farà altri figli e reitererà i suoi comportamenti violenti nessun uomo smette di essere violento perché qualcuno glielo dice queste non sono le mie parole ma sono le parole del magistrato Roia questo per dire che neanche la carcerazione far desistere un uomo dall'essere violento bisogna fare degli interventi differenti l'abbiamo detto culturali di tipo culturale chi lavora nei tribunali insomma chi lavora con a vario titolo insomma con la violenza sa quante volte gli uomini fanno famiglia e quanto da questi nuovi legami nascono altri figli e quindi è una cosa è una catena che non si interrompe mai e qui entriamo un pochino qui sto sempre in una via di mezzo perché questo è una diciamo queste due riflessioni mi derivano sia dal lavoro precedente con le donne vittime di violenza che appunto nel richiedere aiuto al centro antiviolenza una delle domande che spesso facevano a noi operatrici era ma per lui non si può fare niente guardi dottoressa io non voglio proprio denunciarlo il padre dei miei figli oppure l'altra frase molto frequente era non lo voglio rovinare e allora cosa si può fare per lui e noi lì veramente si rimaneva disarmate perché in verità all'epoca parlo del 2013 ho finito di essere un'operatrice che lavorava con le donne nel 2013 perché poi mi sono formata il CAM di Firenze come è stato detto poc'anzi da te che è stato il primo centro in Italia nel 2009 a occuparsi del recupero degli uomini autori di violenza e da quel momento in poi ho fatto una scelta che ho ritenuto giusta e anche doverosa per le donne ma forse un po' per tutti noi anche per i nostri figli maschi devo dire ma quindi sono le donne a chiedere che l'uomo venga aiutato che l'uomo venga inserito in un percorso e sono anche spesso adesso le donne che ci chiamano per chiedere aiuto per i propri figli per i propri compagni per i propri ex compagni per i propri fratelli perché noi dobbiamo pensare che la violenza va estesa a tutte le relazioni affettive di prossimità quindi non soltanto partner o ex partner e il fatto che l'uomo frequenti un percorso di rieducazione aumenta la percezione di sicurezza delle vittime non posso credo oggi per questioni di tempo spiegarvi il nostro protocollo operativo però brevemente dico ovviamente noi abbiamo un passaggio del nostro del nostro protocollo che prevede il contatto con la partner o la ex partner quindi una delle questo contatto ha diverse funzioni è molto complesso e non lo posso fare adesso però nell'inviare la donna al centro antiviolenza più vicino o comunque incoraggiarla se non l'ha fatto capire le sue motivazioni e comunque incoraggiarla fornire il recapito telefonico è quello che possiamo comunque indicare per che lei lo possa tenere a portata di mano caso mai ne avesse bisogno le donne mantengono anche il nostro recapito telefonico quindi che siano in carico al centro antiviolenza o non lo siano hanno la possibilità di contattarci e magari metterci al corrente del fatto che ad esempio il loro compagno perché molte donne dobbiamo pensare che non tutte denunciano non tutte escono dalla relazione quindi molte donne decidono di stare in relazione perché la loro speranza è che il partner cambi ecco in quelle donne il fatto di poterci contattare per loro è come dire un fattore di sicurezza in più in quanto ci possono anche comunicare ad esempio la recidiva del loro compagno generalmente devo dire che gli uomini in percorso ci informano sulle loro recidive ma se loro non lo fanno la prova delle urine avviene attraverso il contatto con la parte scusate questa espressione però è un po' così perché altrimenti noi non sapremmo mai per andare a vedere quello che non si racconta perché non sappiamo mai se effettivamente dicono la verità in linea di massima lo fanno bene a questo punto è chiara la nostra mission la violenza ovviamente non è un destino perché se così fosse non potremmo fare niente per cambiarla ma è una scelta e proprio perché è una scelta possiamo intervenire possiamo fare molto per cambiarla si sarà capito che il nostro lavoro attraverso il percorso rieducativo degli uomini ha la finalità di proteggere le donne e i minori come operativamente lavoriamo sia dentro che fuori le carceri lavoriamo con uomini ma anche ragazzi come ho spiegato poc'anzi e questi arrivano sia su invio dei tribunali dei servizi territoriali o su invio dei professionisti in questo caso con il codice rosso molti dei vostri colleghi oramai sono diventati i nostri migliori amici perché devo dire c'è una strettissima collaborazione ovviamente non solo perché ci sono uomini o giovani uomini che contattano il nostro servizio spontaneamente ci sono momenti in cui gli uomini hanno coscienza di qualcosa forse non di tutto però di qualcosa e sapere che c'è uno spazio che si possono rivolgere li incoraggia a fare quella telefonata questo avviene quando riconoscono la paura negli occhi della propria compagna ex compagna madre sorella figlio o figlia oppure perché hanno paura di agire in modo irreparabile questa è una paura che spesso gli uomini sentono o perché vogliono comprendere le motivazioni dei propri comportamenti il nostro lavoro è un lavoro che si svolge prettamente in gruppo abbiamo soltanto una fase iniziale di valutazione di risk assessment che prevede dei colloqui individuali ma tutto il resto del percorso si svolge in gruppo e una parte di lavoro sta anche nell'assegnare dei compiti a casa quando abbiamo attivato delle riflessioni e vi ho voluto portare dei piccoli passaggi ovviamente di un compito di un compito molto più lungo che ci è stato proprio letto sabato in un gruppo di uomini a Oristano ne approfitto un po' per dire che il nostro servizio è presente su Sassari Olbi a Oristano e in Nuoro in questo momento sostanzialmente copriamo più o meno tutta la Sardegna ho scelto questo anche un po' per sfattare un mito perché abbiamo ho sentito non mi ricordo da chi comunque sappiamo tutti che la violenza è trasversale se questo riguarda le donne riguarda anche gli uomini quindi non dobbiamo mai guardare soltanto all'aspetto della bassa scolarizzazione della dipendenza da alcol da sostanze piuttosto che dalla disoccupazione ma dobbiamo pensare che invece l'uomo può essere ben inserito in un contesto lavorativo sociale e amicale e per questo ho scelto questa diciamo questo compito perché un pochino lo vedrete adesso le parole di Leonardo le userò per concludere questo mio intervento ci fanno rendere conto di quanto lui invece sia un uomo di assolutamente ottima cultura e devo dire anche di ben inserito anche dal punto di vista lavorativo lui dice questo ogni persona senza distinzione di età stato sociale e cultura ha diritto di ricevere un supporto anche quando si è reso autore consapevole o no di qualsiasi tipo di violenza partendo da questo presupposto che credo se non ho capito male sia anche lo spirito fondante del centro concepisco il CAM come un centro di supporto psicologico e morale per aiutare ogni singolo partecipante a ritrovare un proprio e nuovo percorso di vita personalmente del CAM non ne conoscevo l'esistenza e tantomeno il suo ruolo nel frequentarlo mio malgrado mio malgrado era il frequentarlo ovviamente credo di aver appreso sia il ruolo e sia lo spirito del suo agire ossia un luogo di incontro dove la necessità di ascolto e di aiuto da parte dei suoi fruttori si incontra con il bisogno che gli stessi hanno di costruire un progetto di liberazione della violenza da ogni forma di violenza perché anche loro si sentono liberati per le ragioni di cui sopra il CAM è un luogo di accoglienza in cui la metodologia utilizzata legacy percorso ha come fine ultimo quello di far emergere e riconoscere la violenza nei suoi molteplici aspetti e meccanismi luogo dunque in cui si riscontrano esperienze in cui si incontrano esperienze di vita saperi consapevolezze e speranze il mio percorso lo vivo come un laboratorio in cui partendo dal proprio vissuto si sperimentano nuovi modelli relazionali e si acquisisce una piena consapevolezza attraverso la quale è auspicabile sia possibile ridurre il rischio che comportamenti violenti si ripetano e che e dove invece sia possibile sperimentare nuove risorse individuali alternative alla violenza a una citazione la violenza maschile alle donne è un fenomeno antico tanto quanto la storia dell'umanità che ha centrato la propria base sull'affermazione di un unico genere considerato fintamente neutro e ne cita la fonte nessuno strumento sono convinto è in grado di abbattere questo fenomeno se non lo sforzo di una nuova consapevolezza e di un profondo radicale cambio di cultura questo auspico sia il risultato a cui il CAM con il suo percorso voglia e sappia condurci Leonardo è un uomo in percorso e io con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio a tante riflessioni grazie dottor Zollo un uomo violento e anche un genitore e quindi il bilanciamento del rapporto della tutela dei figli e il rapporto con la donna e la crescita soprattutto con riferimento a un uomo violento ero tentata di raccontare un episodio ma prima con il stremo interesse ascolto lei grazie spero di essere breve anzi telegrafico direi cercherò di farlo e quando tanto ringrazio voi che mi avete invitato e chi ci ascolta quando l'avvocata Bertoncelli che ringrazio particolarmente mi ha telefonato per invitarmi qui ha fatto una riflessione abbastanza amara su cui ho riflettuto prima di decidere su cosa parlarvi ci ha detto dottore ci parli di un caso trattato voi dal tribunale per i minorenni però immagino che non abbia che l'imbarazzo della scelta visto che ahimè ed è vero i casi di violenza sono veramente tanti e allora io per togliermi da questo imbarazzo ho scelto di parlare di un caso che ci ispiri fiducia e ottimismo è il caso di due minori uso un nome di fantasia ovviamente Miriam di undici anni e Claudio di quattro di cui ci siamo occupati fino a pochi mesi fa il fascicolo arriva sul nostro tavolo il pubblico ministero chiede la decadenza del padre che si trova già in custodia cautelare in carcere quindi misura cautelare la più grave possibile perché in una occasione almeno una documentata diciamo ha cercato di sfondare proprio il cranio della moglie con un mattarello e i colpi erano molto gravi la signora ha subito lesioni sicuramente molto gravi e pare che i figli non fossero presenti in quella circostanza però nonostante questo noi abbiamo scelto in via urgente di sospenderlo dalla responsabilità genitoriale ed interrompere ogni rapporto con i figli in modo da consentire alla madre di prendere da sola le scelte per i suoi figli con il passare dei mesi il giudice penale ha deciso di affievolire la misura cautelare disponendo che questo signore chiamiamolo per fantasia Giovanni dovesse semplicemente per modo di dire gli fosse vietato l'avvicinamento alla moglie quindi una misura cautelare ben più lieve ecco allora noi abbiamo fatto una scelta difficile ma necessaria sempre in via temporanea e abbiamo detto siccome poi bisognerà decidere sulla domanda di decadenza del padre quindi abbiamo bisogno comunque di elementi per dire questo signore è adeguato o no a prendersi cura dei figli chiaramente la prospettiva che era lì per lì era no visto l'episodio gravissimo però noi abbiamo scelto comunque di avviarlo a un centro a un percorso di contrasto ai comportamenti maltrattanti per tra virgolette rieducarlo vedere se c'era qualcosa di buono da poter recuperare in lui e di avviarlo a incontri con i figli in maniera diciamo molto mediata e sorvegliata dagli assistenti sociali insomma vario tempo dopo circa un anno dopo abbiamo avuto una piacevole sorpresa nel senso che quest'uomo pur resosi responsabile di un gravissimo atto di violenza sicuramente da condannare ha dimostrato una una svolta diciamo una iniziativa del tutto inaspettata all'inizio cioè non solo partecipava alle riunioni insomma prescritte dal tribunale arrivava addirittura in anticipo e spesso la dottoressa lo saprà tante volte bisogna chiedersi questi dove siano perché spesso neanche avvisano che non partecipano lui addirittura arrivava in anticipo partecipava a iniziative chiedeva di potersi informare attraverso libri iniziative eccetera insomma un uomo bisogna dire eccezionale rispetto alle persone che vediamo maltrattanti di cui ci occupiamo e gli incontri con i figli andavano bene ma soprattutto il nodo era che i figli stessi chiedevano di stare più tempo col padre allora per farla breve noi alla fine in definitiva sempre mantenendo delle forti limitazioni nei suoi confronti certamente però abbiamo scelto in quel caso di non farlo decadere perché perché la questo diciamo questo caso direi che ispira tre brevi riflessioni procedimento minorile non è un processo penale processo penale giustamente è fatto per eventualmente sanzionare condotte illecite procedimento minorile è un percorso che invece gli occhi rivolti al futuro al destino è possibile recuperare una persona perché alla fine è vero si va sanzionata però bisogna anche che poi sia una persona che si può rimettere in società che si possa interfacciare con i figli in modo migliore in modo da evitare ulteriori rischi e quindi vedo che devo concludere ormai ho imparato dalla sua espressione in questa mezz'ora diciamo e l'ultima cosa insomma l'ultime due brevi cose che mi pareva di dire cioè la decadenza l'articolo 330 del codice civile dice un genitore deve essere dichiarato decaduto se ci sono due presupposti che devono essere entrambi compresenti perché molto spesso sono i casi più difficili è presente uno solo nei due presupposti invece devono essere presenti entrambi cioè condotte gravi di abuso o trascuratezza ma soprattutto un grave pregiudizio per i figli nel caso che noi abbiamo appena visto sicuramente non c'è dubbio che c'era una condotta molto grave e che sarà sanzionata penalmente speriamo però è anche vero che nel tempo diciamo con una prognosi per il futuro il pregiudizio per i figli visto l'andamento positivo degli incontri le richieste appassionate dei figli di continuare a vedere il padre i cambiamenti dimostrati dall'uomo è chiaro che probabilmente la prognosi sul suo comportamento futuro è positiva mantenendo delle restrizioni che non siano però la recisione giudica di un legame fra quel padre e i loro figli che avrebbero sicuramente sofferto molto di più non potendolo vedere e ultima cosa non lo so non vedo a parte qui diciamo nelle prime file tanti avvocati però io volevo dire solo una cosa e ci tenevo a dire il ruolo ci sono? non si nasconde non nascondetevi l'ultima cosa il ruolo dell'avvocato minorile è fondamentale più di tanti altri ruoli forensi pur nobilissimi io già quando facevo la pratica forense qualche anno fa ho sempre pensato lo penso ancora che la professione di avvocato sia in fondo più difficile di quella di magistrato perché voi comunque avete anche oltre che in mano anche sotto gli occhi le vite dei vostri assistiti e quindi l'avvocato minorile sempre del genitore maltrattante ha una scommessa con se stesso con la sua professione cioè intende voglio dire difendere tra virgolette il suo assistito contro tutto contro tutti tutti andando incontro a un esito inevitabile quale avrebbe potuto essere la decadenza di quest'uomo oppure aiutare davvero il suo assistito a iniziare un percorso di miglioramento che il cui primo beneficiario è quest'uomo che come vedete nel caso che vi ho detto ha recuperato se stesso sta recuperando se stesso ha salvaguardato il suo ruolo familiare lo ha anche rilanciato e migliorato e quindi insomma buon lavoro agli avvocati che esercitano questa professione e grazie per l'attenzione grazie grazie dottor Zollo ma anche il lavoro della magistratura è un lavoro complesso e per questa ragione mi piace ricordare l'ultima sentenza della corte di Strasburgo perché dopo aver sottolineato tempo addietro con la sentenza a tal PIS che il sistema italiano stava in difficoltà diciamo così con riferimento a un pronto intervento sulla violenza da domestica nell'ultima occasione ha evidenziato proprio il lavoro della magistratura e quindi del tribunale dei minori che aveva fatto in modo di salvaguardare completamente la situazione la mia tentazione è raccontarvi un altro aneddoto professionale la tengo e ho il piacere di ascoltare la collega avvocata Anna Marinucci con tutto quello che ha a che fare con la complessità della situazione familiare grazie grazie buonasera a tutti anch'io ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno organizzato questo interessante incontro prima di tutto ovviamente Gabriella Bertoncelli Antonita Confalonieri ovviamente tutti gli altri che hanno collaborato e l'università che ci ha ospitato devo dire che mi avete dato appunto l'opportunità di parlare di argomenti mi stanno molto a cuore adesso purtroppo confesserò la mia età che comunque si vede anche ma io devo dire che sono stata una referente del centro Aurora proprio quando è nato e quindi stiamo parlando di più di vent'anni fa ed è stata un'esperienza molto piacevole devo dire che io sono una civilista e quindi voi direte ma come mai allora qua è presente proprio perché e anche allora ero referente proprio perché il diritto di famiglia è un diritto che non è fatto a compartimenti stagno cioè la famiglia è complessa come giustamente diceva il dottor Zollo e gli eventi che si verificano al suo interno hanno ovviamente delle ripercussioni che non sono esclusivamente ecco la condanna penale o comunque diciamo la sanzione penale ma appunto la riorganizzazione di una famiglia io ho appunto ho quindi ho organizzato devo dire che avevo fatto un discorso un po' diverso ma siccome il tempo stringe anche io stringerò molto perché mi insomma mi dispiace togliere spazio anche ai relatori che poi mi dovranno diciamo dovranno seguire ma diciamo che avevo ipotizzato di fare una sorta di carrellata di quelli che erano i rimedi appunto in sede civile alla violenza e poi invece anche parlare di quello che è il ruolo dell'avvocato in queste diciamo materie in questo settore specifico adesso rovescio un attimino l'intervento perché se poi non farò in tempo a parlare di quello probabilmente anche alla platea forse interesserà di me non dirò ovviamente qualcosa fondamentale però insomma quello che invece mi interessa far capire è proprio che ognuno di noi ognuno ovviamente nel proprio ambito con la propria professionalità dobbiamo contribuire a far modificare la mentalità di coloro che appunto si rivolgono a noi l'approccio a questo tipo di materie e quindi dobbiamo metterci qualcosa di di nostro io vi faccio un esempio brevissimo poi parto subito con quello che è appunto l'aspetto fondamentale ma non ci dimentichiamo che ci sono stati due anni di covid nel periodo del lockdown voi non avete idea com'erano i nostri telefoni noi ci siamo sentiti veramente senza peccare di presunzione dei pronto soccorso giuridici nel senso che vi potete immaginare le coppie separate tutti i problemi che dovevano affrontare genitori che non riuscivano a vedere i figli padri che non riuscivano a vedere i figli perché erano a casa delle madri padri che non avevano il lavoro e che non riuscivano a versare l'assegno di mantenimento garantire il mantenimento alle madri e di conseguenza ovviamente le madri che non ricevendo l'assegno non erano in grado di mantenere i propri figli figli che soffrivano molto di questa ovviamente chiusura di questo lockdown e quindi davano anche ovviamente un po' di matto perché è anche giustificato quello che hanno vissuto e quindi tutte queste situazioni fanno sì che si rivolgevano a noi per ogni aspetto cosa vuol dire ah no mi dimenticavo anche l'ultimo addirittura contrasti fra i genitori perché c'erano genitori che erano a favore del vaccino e i genitori no vax quindi altro problema non di poco conto diciamo allora io devo dire e non lo dico per vantarmi che sono riuscita in tutto quel periodo non breve a cercare sempre di mediare le posizioni e far capire che in una situazione come quella andare a chiedere un parere o meglio una decisione chiamiamola come una pronuncia come si deve chiamare a un tribunale a parte poi i tempi perché anche i tribunali erano chiusi insomma per le emergenze no però insomma voglio dire era ovviamente una situazione tutta particolare sarebbe stata assolutamente inopportuna e comunque non diciamo controproducente perché non avrebbe ottenuto quelli che erano i risultati che dovevano ottenere e allora sono riuscita con non con poca fatica riconosco però a portare i genitori a ragionare e quindi a far capire che se ad esempio mi è capitato più di una volta le mamme erano infermiere e facevano questo lavoro tra l'altro stressantissimo poverine ma con dei rischi enormi per sé e per chi gli stava vicino o se ad esempio i padri avevano delle persone anziane con cui vivevano perché erano andati a vivere con i propri genitori anziani evidente che bisognava cercare di accontentare di assecondare tutte queste esigenze quindi ci sono state mamme che hanno rinunciato a vedere i figli per alcuni periodi o che li vedevano invece che con l'alternanza classica che di solito si fa magari ogni 15 giorni cioè si si dividevano i periodi alternati ma più lunghi proprio per evitare di rischiare di più oppure addirittura che non li hanno visti proprio per salvaguardare magari le persone anziane fragili eccetera stessa storia per quanto riguardava il vaccino tranne un caso che più o meno non era convinta va bene i Novax erano abbastanza tosti e quindi insomma non potevamo ovviamente convincere il contrario detto questo perché ho detto questo perché io volevo arrivare proprio a quello che è un po' il centro della mia del mio discorso intanto voglio prima che se ne vadano salutare due giudici una in particolare che è stato tutto il periodo del mio lavoro precedente perché ormai ci ha abbandonato che è la dottoressa Finna e il dottor Brianda ovviamente grazie per essere stati qua ma io ringrazio è stata un insegnante per il sottoscritto appena arrivato a Sassari anche per quanto mi riguarda perché io cresco sempre cresciamo dal confronto con i magistrati avvocati io penso che sia sempre istruttivo quindi mi ha fatto piacere vederla no no figuriamoci è tardi anche adesso anch'io accelero perché sennò anche gli altri faranno la stessa cosa e non è giusto quindi no vabbè allora io praticamente arriviamo a bomba cioè nel senso che l'argomento che io avevo pensato di affrontare era proprio il ruolo specifico dell'avvocato che lavora in questo settore quando noi intanto chiaramente questo lo dico perché veramente si sente di tutto e di più ultimamente per le persone che avvocati colleghi che hanno difeso appunto assassini persone che si sono che hanno commesso femminicidi eccetera e sono state offese minacciate eccetera allora io su questo vabbè credo che non ci sia bisogno qua di dirlo soprattutto per le persone che ho di fronte ma insomma ricordiamoci che la difesa è un diritto inviolabile e che in ogni stato e grado del procedimento è costituzionalmente garantito dall'articolo 24 della costituzione quindi è giusto che chiunque abbia la propria difesa su questo ovviamente non ci piove per quanto mi riguarda poi io quando esercito la mia professione dico ribadisco in ambito civile comunque devo anche esercitarla rispettando quelli che sono i doveri di lealtà correttezza diligenza segretezza riservatezza competenza e aggiornamento professionale e questo è fondamentale poi ci ritorniamo e questo va bene sono anche principi che sottolinea il codice nostro deontologico forense ma quando l'avvocato esercita la propria attività professionale adotta necessariamente delle decisioni discrezionali circa le scelte difensive che seguirà la condotta processuale che consiglierà appunto di seguire al cliente dei principi le valutazioni che impongono all'avvocato di osservare anche dei principi etici di carattere generale standard di condotta modelli di comportamento da adottare tanto che si dice che si riconosce una funzione sociale alla professione forense e ormai è scontato che si siano estesi anche alla figura dell'avvocato appunto i principi della responsabilità etica e sociale e infatti l'avvocato non dovrà rispondere più solo al proprio cliente ma si dice appunto a tutta la collettività ma questa funzione sociale acquista e ha una maggiore rilevanza proprio nel settore della famiglia dei minori infatti in questi casi l'avvocato si trova ad affrontare dei problemi che riguardano non solo i diritti del singolo ma come appunto dicevamo è stato detto tutta la serata le relazioni umane i rapporti tra coniugi o partner rapporti tra genitori figli relazioni parentali e quindi il momento di affrontare la separazione coniugale è particolarmente delicato per entrambi via uno stress emotivo innegabile ma soprattutto la natura principalmente emotiva di tali cause l'interposizione di soggetti portatori di interessi e diritti diversi ma tutti meritevoli di tutela fanno sì che ovviamente si accentui quella che è la discrezionalità e quindi la responsabilità dell'avvocato questa responsabilità appare poi in tutta la sua importanza se si considera che spesso l'avvocato è la prima figura professionale a cui si rivolge il coniuge genitore quando decide di separarsi ovviamente ovviamente di interrompere la convivenza parliamo ovviamente anche di coppie di fatto e che quindi aspetti proprio a lui gettare alle basi per il successivo evolversi degli eventi gestire il conflitto in modo adeguato per evitare ovviamente che degeneri credo quindi che sin dai primi colloqui con il cliente l'avvocato abbia il dovere dopo averlo reso edotto ovviamente della normativa che riguarda il suo caso di tutte le alternative previste dalla legge della giurisprudenza di legittimità e magari anche del nostro tribunale se di forme e sempre nel rispetto ovviamente delle norme che regolano il mandato difensivo che è stato conferito all'avvocato precisare però quale sia la linea difensiva con cui intende procedere con lo scopo proprio di tutelare tutti gli interessi reali interessi della parte che rappresenta infatti poiché nelle cause di separazione divorzio o familiari in cui si debba decidere del futuro dei figli minori affidamento diritto di visita assegno eccetera si dovrà riorganizzare anche un nuovo modello di famiglia credo che sia doveroso per il difensore sin dall'inizio precisare al cliente che la soluzione ideale auspicabile per lo stesso sarebbe sempre quella di adivenire a una separazione consensuale in cui coniugi stessi si dovranno adoperare con l'aiuto del legale a trovare degli accordi soddisfacenti sia per loro che per la prole sappiate che se questo avviene ovviamente poi quegli accordi facilmente sono accordi che funzionano e che durano nel tempo quando invece sono accordi che sono imposti da un giudice non per togliere niente al giudice ma ovviamente senza entrare nel merito caso per caso nella stessa maniera con cui lo possiamo fare noi facciamo a volte anche trattative diciamo colloquie anche per mesi con i clienti ovviamente possono invece fallire a tale scopo l'avvocato dovrebbe quindi modificare questo è il punto fondamentale che poi rientra proprio in tutto quello che noi abbiamo detto stasera cioè modificare l'ottica con cui affronta tali problematiche cioè non deve essere più basata sulla logica della contrapposizione che per anni è stata perseguita insegnata ai giovani praticanti e agli avvocati che vede cioè l'uno contro l'altro ma basata invece sull'interazione cioè dell'uno di fronte all'altro quindi devo dire che bisogna anche sfatare il luogo comune che vede gli avvocati come fomentatori dei conflitti coniugali intanto perché quando i coniugi si rivolgono al difensore il conflitto già esiste vi garantisco e noi interveniamo purtroppo nel momento patologico della famiglia che è già decisamente molto in crisi a volte addirittura da anni e poi perché se voi guardate i dati ISTAT relativi all'ultimo anno disponibile che il 2020 ma perfettamente in linea con gli anni precedenti risulta che in Italia l'ottantacinque per cento delle separazioni sono consensuali e questo ve la dice lunga poi al quindici per cento che rimane alcune si trasformano anche in corso di causa quindi insomma ancora meglio dicevamo quindi interazione che vuol dire che l'avvocato deve tener conto della complessità del contesto generale in cui lavora sempre però nel pieno rispetto ovviamente delle caratteristiche del proprio rapporto con l'altro che è avvocato giudice consulente mediatore operatore di servizi eccetera psicologo e senza alcun sconfinamento però nei campi altrui solo in tal modo infatti il difensore potrà tentare di mediare il conflitto già esistente tra i coniugi invece che esasperarlo facendo capire al cliente le ragioni dell'altro sottolineando come il preminente interesse dei figli potrà essere tutelato solo obiettivamente rimettendo in comunicazione i due genitori con l'ottica della conciliazione tra le diverse posizioni è ovvio che nei casi di violenza grave è acclarata questa diciamo dinamica e tutto questo percorso che io di cui vi ho parlato è impossibile fra l'altro io in questi casi collaboro anche con fra tutte le altre figure professionali con cui mi rapporto anche con l'avvocato penalista essendo io ovviamente solo civilista perché per me è anche molto importante che l'avvocato decida in maniera consapevole e diciamo responsabile se sia il caso di fare la denuncia o meno se sia molto probabile che veramente il racconto e il vissuto della persona che ha subito violenza sia reale fino in fondo oppure no purtroppo devo dire per fortuna anzi sono pure poche le denunce perché come è stato detto anche stasera le donne spesso non denunciano quindi dovrebbero essere molto superiori il numero delle denunce però c'è anche una una contropartita diciamo che ci sono anche un numero abbastanza elevato di false denunce non ce lo dimentichiamo questo perché noi siamo avvocati così come anche i giudici ovviamente quindi noi ci teniamo veramente a tutelare la vittima della violenza ma sappiate che le false denunce sono contro la donna che veramente subisce la violenza perché creano dei problemi sia noi avvocati che ovviamente ai giudici per cui dobbiamo sempre lavorare un po' con i piedi di piombo cioè mettere le mani avanti le false denunce poi si ripercuotono anche su tutto quello che è l'assetto della famiglia su quello che è il rapporto genitori figli su quello che è la strumentalizzazione di figli minori che viene fatta in quei casi e sto parlando per carità sempre di questi casi non sono tutti casi ma casi limitati ma non così rari che viene fatta proprio per cercare di escludere un genitore per gestire meglio i propri figli o per vendetta o per questioni economiche quindi questo insomma teniamolo presente i figli non sono bottini di guerra come noi ci piace dire e quindi vogliamo evitare che vengano coinvolti cosa che invece succede spessissimo i minori vengono coinvolti vengono strumentalizzati triangolati e poi vabbè ce lo diranno persone che forse anche psicologhe eccetera che ne sanno anche molto più di me ma noi veramente questa cosa la viviamo sulla nostra pelle quindi insomma questo penso che quindi per appunto abbandonare questa cultura della separazione che induce al conflitto il primo dovere del legale dovrebbe essere proprio la specializzazione e l'aggiornamento ma cosa vuol dire specializzazione nel settore proprio sì finisco settore familiare e minorile mentre gli avvocati normali devono solo approfondire un particolare del diritto nel caso nostro invece dobbiamo avere anche delle conoscenze che sono diciamo materie psicologiche pedagogiche dinamiche relazionali con l'obiettivo dell'interazione tra diverse figure professionali infatti la nostra preparazione è sempre multidisciplinare vi ringrazio dell'attenzione e mi scuso se mi sono prolungata un po' il timer l'ho portato ma non l'ho usato no no va benissimo non avere l'ansia del del tic tac arriva dagli occhi era una cosa come dicono gli inglesi ma ultimo ma non per ultimo ma poiché abbiamo parlato di cultura 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 la Laura Useri assessore alla cultura e alle politiche sociali ed educative del comune di Sassari grazie buonasera a tutte e a tutti per me intervenire in questo momento è un vantaggio è un vantaggio perché mi ha dato l'opportunità di poter sentire tutte quelle che sono le realtà dal punto di vista legale dal punto di vista della gestione della sezione diciamo penitenziaria quella che è la sezione sociale e questo mi porta comunque a fare un ragionamento molto pratico abbiamo parlato avete parlato tutti di cultura la cultura la cultura è a 360 gradi la cultura è arte la cultura è scienza sapienza la cultura è anche come ci ci proponiamo verso terzi o come ci confrontiamo con i terzi la violenza sulle donne è un argomento molto articolato quindi parlare di cultura in questo ambito è molto molto difficile anche perché su questo argomento la nostra società è in estrema contraddizione con se stessa mi spiego meglio abbiamo tanti step per affrontare la violenza dal punto di vista assistenziale dal punto di vista giuridico vogliamo come volverci per non per scardinare la violenza contro le donne però è anche vero che c'è una parte della società che nell'ambito della comunicazione non ha rispetto delle donne continua a utilizzarle come oggetto e quindi questo in maniera non direi indiretta direi diretta non indiretta va a contrastare con tutto il grande lavoro che si fa e di cui si è discusso in questo ambito e che porta a continuare a pensare alla donna come oggetto oggetto di desiderio oggetto da utilizzare per pubblicizzare un altro oggetto quindi non c'è evoluzione culturale su questo versante anzi c'è una regressione perché continuiamo a pensare che la donna sia un oggetto quindi l'uomo che purtroppo è istintivo per sua natura è portato quando non si trova nella situazione sicuramente di lucidità mentale a ad avere questi atti estremi che necessariamente noi che ci riteniamo persone ben pensanti noi che ci occupiamo della comunicazione noi che ci occupiamo della cultura dovremo no attenzionare maggiormente e cercare di creare una una sinergia piuttosto che un'antitesi tra il mondo che si occupa della violenza dopo che è accaduta con il mondo invece che provoca violenza con i messaggi che vengono dati perché non sono soltanto i ragazzi che devono essere raggiunti da questo tipo di comunicazione no pro violenza alle donne ma anche gli adulti perché se noi guardiamo la tv qualsiasi programma qualsiasi cosa è indici di violenza se leggiamo i giornali è un'incitazione alla violenza ma a tutti i livelli io ricordo sempre e mi piace diciamo è facile citare una una frase che lessi a suo tempo su un giornale locale che parlava della della partita di basket della Dinamo contro la Serbia e anziché leggere la Dinamo batte la Serbia la Dinamo ha schiacciato la Serbia e siamo nell'ambito sportivo voglio dire utilizzare le parole è importante utilizzare le immagini è importante quindi è bene lavorare sul post ma dovremo lavorare particolarmente sul pre perché altrimenti credo che purtroppo perdonatemi per quanto ci potremo impegnare per quanto ci potremo evolvere per quanto potremo essere perfetti nell'ambito giuridico sociale e tutto ciò che circonda le problematiche della nostra società sarà sempre un cortocircuito che non troverà mai una fine quindi su questo dovremo lavorare parecchio a mio avviso tutto qui un saluto e un buon proseguimento a tutti grazie so che l'assessore ha un altro impegno istituzionale e quando crede ci può allora adesso la salutiamo e la lasciamo uscire dai lavori la ringraziamo mentre da un punto di vista tecnico credo che potremmo intervenire potremmo chiedere di intervenire alla dottoressa Puzzolu che ci segue online eccola qua grazie arrivederci buonasera la dottoressa Tiziana Puzzolumura consigliera regionale delle pari opportunità la ascoltiamo con interesse grazie buonasera buonasera a tutti grazie io sono la consigliera di parità come la dottoressa Bianco che lì la commissione pari opportunità è un altro organismo io sono la consigliera di parità della regione sardegna vi ringrazio ringrazio tutti abbiamo poco tempo per i ringraziamenti consideriamoci tutti come si dice ringraziati vi ringrazio per questi inviti mi sarebbe piaciuto moltissimo essere lì causa maltempo come sapete non sono potuta non ho potuto fare la traversata sulla nostra disastrata 131 anche perché io in quell'aula mi sono laureata e quindi sarebbe stato un caramba veramente per me una cosa anche molto emozionante allora le suggestioni e le cose dette sono tante dal mio ruolo le cose che che posso aggiungere sulla questione della violenza e sulla violenza di genere sono che trovo che c'è una una notevole similitudine tra il set della violenza agita in ambito familiare rispetto alle molestie alle violenze che le donne spesso subiscono in luoghi di lavoro diversi anni fa appena sono diventata consigliere di parità abbiamo promosso con i sindacati e tutte le organizzazioni di categoria a livello regionale un protocollo d'intesa molto molto importante che serviva proprio a prevenire le molestie nei luoghi di lavoro e questo protocollo d'intesa poi sarebbe dovuto diventare un mezzo propulsivo diciamo poi in tutte le aziende perché il fenomeno venisse in qualche modo portato all'attenzione di tutte le di tutte le aziende dei lavoratrici e dei lavoratori di quelle aziende e che ne diventasse in qualche modo il codice etico perché tra la violenza di genere in famiglia o in contesti parentali e le molestie nei luoghi di lavoro c'è un set diciamo che è sostanzialmente possibile normalmente la molestia nel luogo di lavoro avviene in una stanza al chiuso le persone sono normalmente due non ci sono testimoni l'unica cosa che differisce è che non c'è il legame di parentela per il resto la violenza e la molestia in luogo di lavoro è una cosa anche più subdola perché le donne che subiscono molestie proprio di questi giorni ho sul tavolo un ennesimo caso e quindi non pensiamo che siano veramente pochi è quella che che devo sottolineare che quando una donna una lavoratrice si rivolge al mio ufficio che come è noto si occupa di discriminazioni sui luoghi di lavoro ma anche di tutto il resto di tutto il range delle discriminazioni poi voglio arrivare a un punto finale di di quello che sto di questo che sto per dire normalmente a volte succede che dietro una discriminazione di genere sul lavoro agita nel tempo che poi magari loro chiamano anche mobbing in maniera a volte spesso a volte o spesso in maniera impropria scava scava gratta gratta c'è un disagio familiare quindi cioè è sostanzialmente una cosa che io chiamo un tappetto che si srotola mano a mano la donna viene le donne vengono avviluppate da questo meccanismo che si autoproduce e quindi le fa arrotolare dentro un tappetto per cui alla fine si trovano dentro questa salsiccia da cui non riescono a uscire ho proprio questi giorni un altro caso che ho seguito quattro anni fa di una giovane lavoratrice che è venuta da me perché è il suo datore di lavoro di una piccolissima azienda questo simpaticono diciamo perché obiettivamente poi la famosa fatti una risata ma quando mai te la prendi poi sono anche talmente intelligenti che mandano messaggi video quindi come dire alimentano alimentano le proprie come le posso chiamare discriminazioni no il proprio essere uomini fino al punto tre anche in maniera un po' ingenuota quindi quando arrivano le donne hanno spesso tutti gli screenshot delle cose che hanno scritto tutto sommato è facile è facile sì è facile se non per il fatto che dopo una denuncia che io l'obbligo di effettuare per una situazione del genere io come dire ho la sensazione che scatti se l'azienda è molto piccola chi ci perde è la lavoratrice perché o fai una conciliazione o però poi ci sono di questioni che vanno valutate compresa quella che anche in ambito familiare chiamiamo la valutazione del rischio e i rischi sono spesso alti quando invece si tratta di grandissime aziende di imprese pubbliche questo problema è un po' affievolito mi è capitato di una grandissima azienda aver denunciato un'azienda però grande ma anche illuminata e il simpatico Zuzurrellone è stato come dire licenziato e la signora ha trovato una sistemazione in un posto perché poi si sono scatenati tutti contro di lei naturalmente quindi quello che voglio dire mi sarebbe piaciuto come dire entrare anche nel merito di alcune cose che sono state dette ma non abbiamo il tempo quindi non lo farò è che la questione della violenza della nei confronti delle donne a qualunque livello e l'avete detto più volte è impalpabile ed è una cosa che permea la società la capacità di agire delle consigliere di parità in questo nel campo delle discriminazioni di genere è stata sancita non più di una settimana fa circa una settimana fa da una sentenza innovativa o meglio una sentenza abbastanza storica del Tar di Cagliari del Tar della Sardegna che è intervenuto su il mio io ho fatto ricorso ai confronti di una giunta comunale non paritaria di un comune del Sassarese e di recente un paio di giorni fa sono dovuta intervenire per un'altra giunta di un comune del Sulcis la due cose mi preme dire la sentenza del Tar ha chiarito senza sé senza ma che le consiglieri di parità sono legittimate ad agire non solo sulle discriminazioni di genere sul lavoro ma articolo 15 del decreto legislativo 198 su tutto quello che riguarda le discriminazioni fondate sul sesso e sul genere ma lo dico perché perché la difesa di questo comune del Sassarese ci ha messo quattro pagine nella difesa a scrivere che io non ero legittimata ad agire cioè evidentemente avevano tempo da perdere non avevano altri argomenti quindi la prima cosa è l'attacco alla consigliera guardate che sto misurando le parole nel senso che vorrei che con gli esti quanto è sottile e subdolo questo non solo questo lavoro ma soprattutto quando le istituzioni sono donne quindi la prima cosa è l'attacco all'ufficio della consigliera non è legittimata ad agire il TAR di Caglia ci ha messo un secondo gli ha detto guarda non è storia lascia stare è legittimata ad agire dopodiché gli ha detto che deve rifare l'aggiunta è finito ho dovuto poi fare la stessa procedura la difida a un comune del Sulcis bene io vi vorrei leggere così e poi diciamo chiudiamo se avete perché il tempo è veramente poco che cosa ha dichiarato questo simpatico sindaco ieri all'Unione Sarda a questo per quanto riguarda stizzito evidentemente no? però pesiamo bene le parole vi leggo solo la frase diciamo che mi sembra più interessante debbo sottolineare una caduta di stile da parte della consigliera regionale solo quindi la prima cosa una caduta di stile già che prima di diffidare il comune avrebbe dovuto avrebbe dovuto interloquire con il sottoscritto io in maniera più elegante e consona all'incarico che ricopre cioè io cioè sono caduta di stile e siccome gli ho fatto un'ingiunzione gli ho fatto una diffida scusate gli ho fatto una diffida io sono caduta di stile avrei dovuto interloquire con ello vos signoria maschio in maniera elegante consona all'incarico che io ricopro quindi non sono degna di ricoprire questo incarico che mi ha dato un ministro della repubblica italiana chiedendo chiarimenti avrei dovuto chiedere dei chiarimenti nel caso che l'albo pretorio del comune è evidentemente carta straccia non so perché ce l'abbiano forse bisognerebbe ricordargli al sindaco a che cosa serve l'albo pretorio e gli atti che che produce chiedendo chiarimenti sulla vicenda anziché agire in maniera impulsiva quindi io sono caduta di stile non sono elegante non sono adatta al ruolo che ricopro e poi come tutte le donne sappiamo anche quelle di una certa età diciamo che l'impulso forse lo tengono un po' più represso però siamo impulsive io credo che in questo quadro io mi chiedo se questo sindaco avrebbe mai detto a un pubblico ufficiale quello che io sono e quello che noi siamo una frase di questo genere ecco senza sollevare ire malcontenti come dire prese di posizione sdegnate sui giornali magari da parte di organizzazioni di donne che sono escluse da anni dalla politica che è una grandissima violenza nei confronti della società non solo delle donne quindi questo sindaco dovrebbe chiedere non dire che io sono caduta di stile lui o qualchiunque anche quello del comune del sassarese ma adesso guardi sto scrivendo proprio questo pomeriggio altre dodici di fide ad aden perché ci sono dodici quindici comuni in Sardegna dal diciotto a oggi che non rispettano le quote di genere non come dice la legge sotto il quaranta per cento che lì diciamo è la metà perché arrivano al trentatré ed è proprio per il roto della cuffia questi quindici di questi quindici la quota di genere è del venti per cento cioè una donna ogni cinque quattro cinque uomini vi rappresento che negli organismi intermedi quelli le unioni dei comuni o in tutti gli altri gli altri organismi intermedi di secondo livello le donne presidenti sono quasi zero dentro le giunte di questi organismi sono praticamente inesistenti allora io credo che di lavoro da fare per il futuro ce ne sia tantissimo perché tutto questo che non vi sembri e non ci sembri una un dato di secondaria importanza ma è la fotografia vera di quello che succede ancora non in Sardegna ma in tutto il nostro paese questo è il punto poi mi sarebbe piaciuto come dire lancio queste e chiudo qua chiedendo venia forse se mi sono dilungata oltre i quattro minuti e mi sono stati concessi sul fatto che è ora di cominciare a ragionare per quanto riguarda la violenza all'interno anche dei legami parentali all'interno delle coppie non eterosessuali ma anche all'interno delle coppie omosessuali omosessuali e del mondo LGBT plus quello è tutto un mondo diciamo da indagare e da scoprire se un uomo o una donna all'interno di queste coppie subiscono violenza perché c'è sappiamo che è presente ma è poco diciamo visibile non si rivolgono certo a un centro antiviolenza non vanno da un CAM ed è una diciamo una sfida anche per le giunte comunali nel senso è un serbatoio di riflessione che dobbiamo assolutamente affrontare perché un paese avanzato deve affrontare i temi avanzati grazie grazie dottoressa anche per questa conclusione grazie avvocato Valentina Bianco grazie ha acceso ho esagerato col rosso buonasera a tutti ringrazio la collega Bertoncelli per avermi coinvolta in questo incontro utile a trattare un tema che trovo meriti spazio e voce le discriminazioni di genere in ambito lavorativo ratificando la convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro la numero 190 sull'eliminazione appunto delle violenze e delle molestie sul luogo di lavoro lo Stato italiano ha riconosciuto che la violenza e le molestie sul luogo di lavoro possono costituire una violazione dei diritti umani secondo la dottrina nazionale parlando di molestia si dice che la molestia ricorre in ogni attività che altera dolorosamente e fastidiosamente l'equilibrio psicofisico normale di una persona ma ho difficoltà perché sento un erco e si è fatta una certa allora dicevo gratificando appunto la conversione dell'organizzazione internazionale internazionale del lavoro la numero 190 quella che la convenzione che è stata adottata appunto a Ginevra il 21 giugno del 2019 lo Stato italiano ha finalmente riconosciuto che la violenza e le molestie sul lavoro possono costituire violazioni appunto ai diritti umani secondo la dottrina nazionale ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l'equilibrio psicofisico di una persona si riconduce appunto al termine molestie parliamo un attimo di normativa nel codice penale non è previsto allo Stato una fattispecie ad hoc per le molestie sessuali in ambito lavorativo succede che quindi la sfida applicativa viene rimandata alla giurisprudenza ed è la giurisprudenza che appunto si occupa di sondare il terreno dei comportamenti molesti in termini appunto di specificità contingente circa quella che è la modalità di estrinsecazione dei comportamenti e la gravità degli stessi al fine di incardinare quello che è il caso di specie nella fattispecie generica più aderente nei casi di molestie più incisive ovviamente ci riferiamo a esempi tipici come i toccamenti e le zone erogene si è ritenuto integrato quindi il reato di violenza sessuale essensi del 609 bis del codice penale mentre davanti a condotte radicate in ossessivi corteggiamenti piuttosto che azioni comunque comportamenti persecutori reiterati lo sfondo sessuale non rappresenta un elemento della condotta ma rappresenta il motivo della condotta e quindi agevole ricondurre diciamo le circostanze concrete al reato di stalking 612 bis ancora in presenza di ricatti chiaramente perpetrati ai danni delle lavoratrici si è fatto riferimento applicativo al reato di violenza privata fino anche nello stadio del tentativo per quanto riguarda il codice civile articolo 2087 abbiamo la configurazione del dovere datoriale di adottare tutte quelle che sono le misure necessarie per tutelare l'integrità morale la personalità quindi e l'integrità fisica del lavoratore sul punto importante sottolineare è che il datore di lavoro non risponde solamente quando è compielato in prima persona ma è chiamato a rispondere in termini di responsabilità in questo caso civile anche a seconda delle circostanze nel momento in cui la condotta viene perpetratta da delle figure subordinate in questo caso possono essere delle figure gerarchicamente superiori alla dipendente per esempio chiaramente parliamo di una responsabilità in questo caso civile che si ravvisa sul piano il risarcimento del danno piuttosto che nella costrizione al reintegro della posizione lavorativa della dipendente codicelle pari opportunità articolo 26 considera molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi in forma fisica verbale o non verbale aventi appunto lo scopo l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare quindi intorno a lui un clima intimidatorio ostile o degradante umiliante oppure offensivo riconduce quindi apertamente l'agire in argomento al concetto di discriminazione in concreto però cosa succede in concreto capita appunto che l'episodio elisivo non venga riconosciuto come discriminatorio ma venga considerato normale questo capita perché normalizzare una situazione che di fatto normale non è quindi una situazione normale dal punto di vista della vittima io penso che sia una strategia presumibilmente adattiva nel senso che succede interiormente perché in quel frangente si tendono a provare dei sentimenti che nell'immaginario collettivo purtroppo pagano uno sconto triviale pagano lo sconto di essere associati di restituire l'idea della debolezza invece che dell'umanità questi sentimenti chiaramente sono la vergogna e la paura in primis nel rapportarsi con l'esterno poi succede per il tumore per il timore scusate di subire ritorsioni si sopporta un contesto lavorativo psicologicamente o fisicamente lacerante perché perché la prospettiva di perdere quel lavoro è sicuramente una prospettiva che spaventa maggiormente cosa succede però succede che tollerare significa evadere la tassa dell'evoluzione significa collaborare di fatto con quelle che sono le strutture discriminanti radicate nel nostro paese quindi penso che l'esternazione sia un passaggio obbligato al fine proprio di disinnescare questa prassi un soggetto terzo innanzitutto rispetto a quello che viene coinvolto in prima persona dalle dinamiche di cui parliamo è in grado di assumere già notoriamente la distanza psicologica necessaria per vedere cosa realmente sta succedendo se poi quel soggetto terzo è un organo istituzionale detiene anche gli strumenti idoni a tutelare la posizione compromessa quindi è fondamentale che emerga il coraggio della segnalazione per rafforzare questa tutela giurisdizionale l'articolo 41 bis che non a caso era ubicato vittimizzazione parliamo sempre del codicello pari opportunità ha specificamente esteso l'applicazione della tutela di cui parliamo in relazione a tutte le ipotesi di reazioni datoriali che siano stative o ritorsive nei confronti di qualsivoglia attività che si avvolta invece a far rispettare la parità di trattamento questo senza distinzione alcuna tra i casi in cui l'azione è stata portata avanti in misura propulsiva dalla vittima stessa oppure la vittima è stata in questo caso aiutata da figure di riferimento soggetti terzi è importante scandire a chiare lettere infatti che esistono delle figure di riferimento importanti in materia a ogni livello istituzionale le consigliere e i consiglieri di parità tuttellano e sostengono le lavoratrici e i lavoratori che hanno a che fare appunto con una discriminazione in ambito lavorativo idealmente quindi noi rappresentiamo un referente importante per ambedue i sessi nel concreto ci stiamo rivelando in utilità CERLO un contatto da tenere in necessaria considerazione per le donne a causa di notorie questioni che attengono appunto la statistica stavo controllando il rapporto ISTA del 2016 ho appuntato che sono 1.404.000 le donne che nel corso della loro vita lavorati vanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro già questo dato rappresenta l'8,9% delle lavoratrici attuali o passate e ricordiamoci sempre che sono dati mistificati perché molti non hanno il raggio di segnalare esatto ed è già berrante la corrispondenza di questo dato immaginiamoci che comunque per i problemi di cui parlavamo in termini di esternazione è un dato assolutamente farsato purtroppo come consigli di parità quindi possiamo rappresentare un filtro in primis un filtro determinante per aiutare gli utenti appunto a comprendere se sono o meno in presenza di una discriminazione dopodiché possiamo offrire una tutela specifica come diceva Tiziana appunto noi siamo pubblici ufficiali abbiamo quindi il dovere giuridico di segnalare allo stesso tempo nei casi di appurata lesione quindi dopo il passaggio preliminare che è quello del comprendere se effettivamente sussiste o meno la discriminazione possiamo chiaramente intervenire avvalendoci strumenti quali le conciliazioni i piani di rimozione delle discriminazioni in atto fino anche il giudizio il giudizio chiaramente su delle vittime in misura totalmente gratuita stasera quindi poi da ultimo ci tengo a ringraziare veramente tutti voi innanzitutto perché io faccio l'avvocato il campo che mi interessa è più il diritto di famiglia quindi ho ascoltato con un'attenzione particolare gli interventi che mi hanno preceduta e poi perché parlare di questi temi genericamente intesi a prescindere dal fatto che ci siano o meno delle giornate dedicate spero che in un futuro non ce ne sarà bisogno serve a indebolire gli stereotipi e a REMA quindi a favore della modifica culturale di cui abbiamo tanto parlato e di cui abbiamo un viscerale bisogno grazie grazie la dottoressa Francesca Ruggio buonasera a tutta e buonasera a tutti sono più vicino preferisci anche nel seduto no io lo stereotipo come presidente della commissione regionale delle pari opportunità me lo faccio da sola quindi più che sarda sono mansarda e preferisco stare in piedi ringrazio la dottoressa con Polonieri la presidente delle pari opportunità del comune di Sassari un caro saluto alle autorità civili e militari per avermi dato la possibilità di poter esprimere il mio pensiero qui oggi al contrario della consigliera della parità regionale vengo da Nuoro e ho deciso di affrontare questo viaggio proprio perché venendo da Nuoro porto avanti la grinta e la tenacia dell'unico premio Nobel femmina in Italia grazie dell'Edda sono venuta con maggior piacere nella provincia di Sassari perché l'unica la prima sindaca donna Ninetta Bertoli Borutta Bartoli sono contenta di rappresentare la regione Sardegna come presidente delle pari opportunità perché l'unica donna ad avere un incarico come rettrice dell'università di Sassari Maria Del Gron nel mese della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ricordo come si è costituita questa data del 25 novembre già nel lontano 1960 tramite le sorelle Mirabal che praticamente si recavano in carcere per trovare i propri mariti furono brutalmente uccise nel 1981 il 25 novembre avvenne il primo incontro internazionale femminista delle donne latinoamericane e caraibiche e da quel momento il 25 novembre è stato riconosciuto come data simbolo i colori rappresentanti sono sostanzialmente due a livello nazionale il rosso a livello internazionale l'arancione lo scorcio d'inizio del ventunesimo secolo ci regala a noi tutte un'istantanea da brivido le donne oggi come non mai risultano essere vittime di odio i numeri parlano chiaro oltre 6 milioni di donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica psicologica e verbale più di un milione è stata stuprata l'89% delle donne migranti giunte in Italia è stata violentata oltre 4.000 donne nel corso della loro vita lavorativa hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali rappresentando il 9% delle lavoratrici la Sardegna non fa eccezione in questo essendo l'isola col più alto numero in Italia di femminicidi secondo i dati del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza durante il 2022 sono stati registrati 125 femminicidi donne uccise in ambito familiare affettivo di queste 56 donne hanno trovato la morte per mano del partner o del proprio ex ritornando al discorso che ha fatto l'assessore effettivamente è un problema strutturale è un problema culturale legato proprio alla figura della donna perché è vero che ci sono delle donne che oggi grazie a Dio rappresentano degli incarichi istituzionali ma è anche vero che tutti questi ruoli istituzionali sono stati raggiunti con moltissima fatica perché la donna in una società strettamente maschilista trovava un ruolo solo all'interno della famiglia o meglio delle mura domestiche vorrei ricordare che l'uguaglianza è un principio non sindacabile e che alla donna storicamente veniva attribuito un compito importantissimo perché storicamente soprattutto in una cultura sarda i compiti tra uomo e donna erano compiti divisi alla donna aveva il compito del trasmettere il valore morale cioè l'educazione dei figli storicamente se voi andate a notare anche lo spazio tra uomo e donna era diverso l'uomo aveva spazi aperti l'ovile il bar la piazza la donna aveva spazi chiusi la casa la chiesa effettivamente è stato fatto molto però molto si deve ancora fare diciamo che il maestrining è ancora una cornice da riempire se le donne non prendono consapevolezza del fatto che si può viaggiare in maniera paritaria tra uomo e donna non si può raggiungere quello che effettivamente è l'uguaglianza di genere è diversa anche la discriminazione la disparità economica perché è vero che a parità si possono raggiungere gli stessi incarichi ma retributivamente non è la stessa cosa le donne sono meno retribuite in più ancora nel 2022 la donna deve decidere se rinunciare al lavoro ed occuparsi della famiglia io penso che il problema legato alla violenza di genere sia soprattutto questo perciò il mio messaggio come presidente della commissione regionale delle pari opportunità che sostanzialmente ha un compito consultivo e di monitoraggio sia proprio questo bisogna insegnare alle ragazze e ai ragazzi partendo dalle scuole un linguaggio gentile prima di tutto quindi cerchiamo di abbattere quelli che sono gli stereotipi il linguaggio d'odio e il body shaming a partire da questo bisogna organizzare convegni che servono sì è vero per ripetere magari sempre gli stessi argomenti ma sono dei messaggi che poi noi porteremo all'interno della nostra casa perché è vero come hanno detto prima che la cultura è il fattore probabilmente principale ma è anche vero come fine ultimo che la cultura è tutto ciò che ci rimane quando abbiamo dimenticato tutto quindi cerchiamo di costruire una base una base paritaria dove sia uomo che donna hanno gli stessi diritti e così probabilmente avremo un futuro migliore grazie la dottoressa Carmen Fragietta allora nel ringraziarvi per l'invito allora io devo precisare che vengo in sostituzione della presidente della dottoressa Gabriella Tucconi che oggi purtroppo aveva un altro impegno lavorativo pertanto mi ha chiesto di sostituirla come vicepresidente del Cug dell'azienda ospedaliera universitaria ho anche una recente nomina di garante dell'infanzia e dell'adolescenza per cui scusate se non posso esimermi dal fare anche una piccola riflessione sulla situazione dei minori però preferisco magari partire da un punto fermo che è quello per il quale sono stata invitata a fare questo intervento anzitutto credo che le aziende sanitarie siano proprio lo specchio di quello che è la cura ma la cura intesa come prendersi cura non solo curare perché anche il ministro della salute ormai ha un'interpretazione molto più moderna molto più pratica dell'assenza di malattia o meglio della malattia non esiste salute se non esiste un equilibrio psicologico fisico e sociale quindi la cura non è più una cura di un organo o di una persona malata la cura è il prendersi cura della persona dal punto di vista fisico psicologico e sociale pertanto molto più ampia credo che le aziende sanitarie ormai stiano vertendo verso una connotazione un pochettino più empatica più accogliente di una presa in carico a 360 gradi della persona della sua sofferenza della sua famiglia e anche dell'impatto che ha a livello sociale tant'è che proprio l'azienda ospedaliera universitaria ha deciso di inaugurare uno spazio che si chiama spazio arcobaleno dove come appunto mi collego all'intervento precedente che trovo assolutamente importante per il quale effettivamente bisogna un pochettino educare proprio come specchio della società all'interno di un'azienda sanitaria si deve fare prevenzione quindi principalmente educare proprio a ritrovare una forma di equilibrio tra padre e madre tra uomo e donna tant'è che questo spazio è dedicato alla genitorialità alla genitorialità intesa proprio come necessità di rapportarsi come coppia necessità di rapportarsi come famiglia e come genitori infatti chiunque venga ospedalizzato spesso e volentieri non ha la possibilità di vedere i figli quando sono molto piccoli per cui in questo spazio ci sarà la possibilità di farli incontrare perché le regole ovviamente vanno rispettate e dicono che sotto i 12 anni i bambini non possono entrare nelle corsi ospedaliere creando tanti traumi però volendo tornare proprio a un aspetto paritario fondamentale per una prevenzione si è data anche importanza a quello che è il papà che lavora che magari fa il medico fa l'infermiere che fa i turni nell'arco delle 24 ore che magari fa le guardie di 12 ore che ha un bambino che comunque a lui è affezionato che sia separato che sia felicemente sposato non ha importanza deve avere comunque la possibilità di poterlo incontrare anche se fosse solo per condividere un momento se fosse solo per fargli capire che ci teneva a vederlo a incontrarlo quindi ha la possibilità di staccarsi e di usufruire di questo spazio che è stato di inaugurazione recente che già sta funzionando anche per tutti coloro i quali vengono a trovare delle persone che comunque sono ospedalizzate con dei bambini molto piccoli quindi hanno necessità effettivamente di avere un punto di incontro però per quanto riguarda la violenza dei genere io non posso fare a meno di pensare che ha una correlazione anche con la violenza assistita che incide in maniera terrificante sulla psiche degli infanti dei bambini in età evolutiva in adolescenza anche in preadolescenza veramente impattante anche per il futuro anche nelle scelte anche nella possibilità di avere anche un progetto di vita equilibrato quindi gli viene tolta questa possibilità e inoltre c'è da dire non meno importante che il trauma non è un trauma a fine a se stesso è un trauma che è stato visto in diverse sfaccettature l'epigenetica ci dice con tutte le ultime ricerche assolutamente che il trauma si può trasmettere anche di generazione in generazione quindi il danno della violenza di genere della violenza sulle donne non deve essere necessariamente un trauma grandissimo non deve essere per forza di una pericolosità incontrollabile anche i piccoli traumi nel tempo incidono negativamente vengono trasmessi di generazione in generazione dando determinando poi quella che è una prole un futuro in qualche modo condizionato pertanto credo che sia importante dare vita a tutta una serie di incontri che abbiano però vi dico come fulcro sicuramente la famiglia perché tutta la società va in qualche modo un po' sensibilizzata al fatto che deve esistere una genitorialità sociale che deve essere proprio in virtù del sostegno a tutti i minori che sono figli figli di tutti non esclusiva proprietà dei propri genitori vi ringrazio per l'attenzione la professoressa Graziella Benedetto eccola Buonasera Buonasera a tutti ringrazio l'avvocato Bertoncelli per avermi invitato a questo incontro è abbastanza coinvolgente diciamo perché tutte le volte che si ascoltano questi discorsi non si può rimanere come si può dire indifferenti ecco io non ho trovato la spillina quindi tengo in mano il nastrino rosso allora sono stata invitata a questa riunione come membro grazie come membro del comitato unico di garanzia dell'università di Sassari perché quando sono stata invitata appunto io ero membro e mi ricollego al discorso della dottoressa Fraietta perché abbiamo collaborato insieme per l'apertura dello spazio arcobaleno essendo io appartenente al gruppetto del che si occupava di questa di questa parte all'interno del del Cug del comitato unico Cug è brutto e l'obiettivo proprio era quello di creare uno spazio utile anche e soprattutto io parlo per conto dell'università per gli studenti e le studentesse in modo tale che potessero avere a disposizione un luogo nel quale magari fare rimanere i propri bambini durante magari il momento in cui dovevano sostenere l'esame accompagnati da un familiare che potesse tenere i bambini in uno spazio neutro o tranquillo e quindi abbiamo avviato tutta una serie di consultazioni di contatti eccetera attraverso anche azioni promosse dal comitato unico dell'università per aprirsi proprio a collaborazione con il territorio e creare tanti spazi come questo all'interno dell'Ateneo che ha sedi gemmate anche nel resto del territorio quindi non soltanto Sassari ma anche Alghero Olbia Oristano e Numero però il primo spazio l'abbiamo voluto aprire insieme in collaborazione con l'azienda ospedaliera e infatti siamo ospiti come spazio fisico all'interno dell'ospedale però sono prossimi di apertura diciamo in collaborazione con FIDAPA c'è qui l'avvocato Martina Piras che PIN scusa Martina perché l'obiettivo è quello di aprire tanti spazi in altre istituzioni ora come nel frattempo sono diventata presidente del comitato unico di garanzia dell'università di Sassari e sicuramente posso riferire appunto ciò che è stato fatto dalla professoressa Galinanes che era la presidente che ha dato le dimissioni e l'attività che ha fatto l'università a favore diciamo della lotta contro la discriminazione è stata un'azione più che altro in termini di formazione formazione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario e poi anche con incontri fatti in collaborazione anche con l'università di Torino con la professoressa Scarpa che ha affrontato il tema del linguaggio a livello domiciliare come primo strumento di abuso e controllo su questa linea intendiamo proseguire chiaramente senz'altro continuare nella linea avviata dalla ex presidente e quindi promuovendo azioni di formazione anche con i docenti e poi con gli studenti cercando di inserire anche crediti formativi universitari all'interno dei corsi di laurea e non ultimo l'azione che è stata svolta appunto dal gruppo del Gender Equality Plan dell'Ateneo che ha predisposto proprio un piano volto a ridurre appunto le discriminazioni anche all'interno delle commissioni concorsuali della distribuzione quindi delle figure apicali distribuzione dei ruoli e mira all'inclusione di una diciamo di una prospettiva di genere anche nella ricerca e nel mondo accademico è uno strumento indispensabile che serve agli Atenei anche per partecipare ai progetti europei che chiedono soprattutto Horizon 2020 appunto chiede la presenza di questo strumento all'interno dell'Ateneo quindi noi avremo questa linea di prosecuzione diciamo dell'attività per affrontare queste tematiche molto importanti tra cui anche la giornata che poi come è stato detto poc'anzi non deve essere una giornata ma un impegno costante del 25 novembre che comunque si protrae fino al 10 dicembre appunto per la giornata dei diritti umani cercheremo di organizzare qualcosa anche noi in collaborazione con tutte le associazioni con cui ci siamo già rapportate grazie grazie per la conclusione il comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Sassari ecco perché la collega solo ha detto che ha avuto l'ultimo momento quindi grazie buonasera avvocato Antonello Satta faccio parte del comitato pari opportunità presso il consiglio dell'ordine mi limiterò ai saluti da parte del comitato in sucessione dell'avvocato e presidente Anna Soro faccio due brevissime considerazioni perché a casa ho una moglie violenta per cui è già tardi una considerazione prima di tutto mi è capitato di partecipare a dei convegni dove si parlava della violenza sulle donne dove c'erano sei relatori tutti quanti maschi stasera grazie a Dio non solo diciamo dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista numerico le donne sono ben rappresentanti da un altro punto di vista è una serata con occhiari scuri ovviamente come il tema ovviamente ci fa capire da un lato sogno diciamo un periodo un tempo prossimo in cui il persecutore sia lui che va fuori di casa e non la donna con i figli ad andare fuori nelle case protette ma dovrebbe essere l'inverso ma questo è un sogno per quanto invece diciamo dal punto di vista diciamo dei chiari la dottoressa Casu è un chiaro un chiaro esempio di come si siano fatti dei passi in avanti perché fino a qualche anno fa io testimone oculare andavano a casa dei maltrattanti dei poliziotti che probabilmente dovrebbero andare in terapia loro invece che i mariti maltrattanti grazie a Dio adesso ci sono delle specializzazioni all'interno delle forze dell'ordine che fanno sì che siano in grado di capire da subito qual è il problema certo è che anche se dei passi avanti si sono fatti occorrono degli istituti ancora diciamo più forti occorrono soprattutto dei diciamo dei finanziamenti molto più sostanziosi perché il codice rosso è un piccolo passo ma ancora non funziona vi ringrazio saluto tutti quanti sì dal convegno dell'anno scorso per il 25 novembre sono derivate due opportunità fondamentali la prima è che abbiamo saputo che il rettore mette a disposizione questa sala questa culla del diritto gratuitamente a condizione che venga rispettata la parità di genere quindi questa è l'unica condizione per accedere a questa sala la seconda considerazione è che quell'appuntamento dell'anno scorso dove erano stati invitati soltanto gli uomini in prima battuta è stato annullato e quello che ci dispiace è che quegli uomini che erano stati invitati sono stati invitati ad essere presenti anche stasera a far parte delle voci presenti erano impegnati perché stavano lavorando evidentemente perché l'uomo lavora la donna invece sta qui quindi poiché abbiamo detto che questo è un incontro dedicato a noi dove ognuno di noi è una voce da portare all'esterno con un messaggio all'esterno chiedo a voi anche se oramai siamo in chiusura ma ci hanno promesso che prima delle sette e mezzo non ci caceranno da quest'aula perché c'è chi ci consente di stare se mi rivolgo ovviamente intanto da questa parte se volete prendere la parola per un messaggio conclusivo o comunque chiunque abbia piacere di farci sentire la propria voce grazie intanto buonasera a tutti io sono il questore di Sassari come dire intervenendo per ultimo non posso che essere d'accordo con tutto quello che è stato detto nel senso soprattutto dal punto di vista dell'approccio culturale che è questo problema che è questo problema della violenza soprattutto nei confronti delle donne deve essere affrontato ritengo che debba essere affrontato sicuramente fin dalla giovane età quindi qui le scuole forse devono fare molto molto di più rispetto a quello che si fa che si fa oggi sugli adulti ho seri problemi perché io dico sempre ma io lo dico per i criminali cioè cercare di rieducare una persona di 50-60 anni è molto più difficile perché ormai ahimè si è strutturata nel male e difficilmente è possibile cambia scusate ma un po' di raucellina è impossibile fargli cambiare idea è pur vero che ci sono le eccezioni abbiamo sentito appunto di dottore abbiamo sentito come dire di persone adulte che riescono ad avere un cambiamento speriamo sia un cambiamento reale non un cambiamento dovuto a un'opportunità che queste persone vedono in quel determinato momento la cosa in più che vorrei dire è questa purtroppo spesso accade ma l'abbiamo detto e questo però è un punto che vorrei rimarcare purtroppo troppo spesso accade che le donne ritornino indietro cioè anche rispetto a strumenti ormai avanzati che noi abbiamo la polizia di stato da parecchi anni ha degli strumenti abbiamo iniziato con i minori con le sezioni specializzate dei minori che in un certo modo comunque hanno acquisito quella come dire la sensibilità che adesso noi mettiamo anche nel rapporto ovviamente con le persone maltrattate di qualsiasi tipo e di qualsiasi genere naturalmente però le donne abbiamo visto in questi anni spesso purtroppo accade che ad esempio ritirino le guerele e questo diventa un problema serio perché qualcuno lo ha detto cioè molte donne dicono beh ma io lo voglio perdonare gli voglio concedere un'altra possibilità e poi ancora un'altra e poi ancora un'altra fino a che arriviamo all'omicidio ecco questo è un punto davvero importante da tenere in considerazione e purtroppo è un punto che in certo qual modo come dire ci tarpa un po' le ali perché naturalmente se non c'è una denunzia qualora non si debba procedere d'ufficio è un problema però la legislazione ha voluto sì che adesso noi questori abbiamo uno strumento importante che è quello dell'ammonimento oggi non se ne è parlato però secondo me è un argomento da portare avanti cioè da far conoscere e quindi ecco questo lo vorrei introdurre come una futura ipotesi di infatti ma bisogna farlo conoscere però ecco bisogna diffondere questa che esiste questo strumento che secondo me è uno strumento abbastanza efficace perché per quello che abbiamo potuto vedere noi in questi anni qualcosa fa ed è ed è ed è importante naturalmente perché questo qualcosa fa potrebbe essere un qualcosa che salva che salva la vita grazie 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 no sì grazie la seconda volta in dieci giorni che parlo in quest'aula dove non mi sono laureato ma mi ricordo nel 1989 di essere entrato posizionato là in fondo erano i tempi della pantera per chi se lo ricorda naturalmente temi interessantissimi però ho sentito da un lato ho appreso delle cose dice ho guadagnato diciamo a stare tutto questo tempo a seguire i lavori del di questo seminario ho sentito un po' di pessimismo però la guerra è sempre la battaglia è sempre dura ma chi combatte la battaglia ha la prospettiva di vittoria davanti e quindi ha l'ottimismo che lo guida e io vi porto questo piccolo contributo personale io ho una figlia di 15 anni ha vissuto prima a Cagliari poi a Roma adesso a Sassari quindi io che sono sempre molto come dire possessivo come padre conosco e cerco di conoscere i compagnetti le compagnette quindi ogni tanto li intervisto li sento anzi diciamo più di ogni tanto ho una certa dimestichezza e hanno un approccio nella relazione personale fra di loro ragazzi di 15 anni che è completamente diverso dalla modalità di relazionarsi che avevo io per esempio alla stessa età migliore e quindi come dire questo mi fa pensare positivamente al futuro rispetto a quello che abbiamo detto un cambiamento culturale nelle relazioni tra i sessi tra i generi questo era il pensiero che volevo condividere con voi e ringraziarvi e ringraziare i relatori naturalmente per il contributo di pensiero che ci hanno offerto stasera buonasera buonasera a tutti io sono il capitano Mattia sono lo psicologo della brigata sassari sono venuto qui in rappresentanza del vicecomandante che non è potuto esserci il comandante della brigata come sapete è impegnato in operazione all'estero ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi che sono stati fatti anche per via ovviamente della mia professione e del lavoro che svolgo sicuramente nei fenomeni di violenza c'è sempre la tendenza a vedere l'altra persona in questo caso la donna come è stato già detto come un oggetto come qualcosa che deve colmare delle mancanze nostre perché dietro spesso ci sono problematiche di dipendenze patologiche di gestione dell'aggressività quindi il lavoro è sicuramente culturale è stato già detto è stato detto e ripetuto tante volte ma è anche un lavoro più strettamente psicologico cioè di lavorare su questi aspetti qui di gestione dell'aggressività di differenziazione perché spesso appunto ci sono situazioni di dipendenza patologica in cui il partner non è distinto da se stesso quindi è parte di me e quindi posso farne quello che voglio questo è un po' diciamo ci sono delle dinamiche psicologiche che si presentano nelle situazioni di violenza quindi sicuramente c'è da lavorare tanto a livello culturale a livello psicologico e con tutte le professioni e le professionalità che oggi sono intervenute io la ringrazio per avermi dato questa possibilità di ascoltare e di ricevere feedback e input che porterò ovviamente nel mio lavoro grazie grazie a tutti no no da qui da qui ho anche seduta se vuoi ti ho sentito e di ciò che vedo vedo pochissima gente ce n'era poca rispetto a quanto io aspettassi già dall'inizio ma non perché questa conferenza non fosse degna di una del pieno completo anche di più nella sala e il problema è appunto riprendendo il discorso fino adesso condotto da un po' da tutti è un problema culturale cioè non gliene importa niente quasi a nessuno muore una donna ogni tre giorni subiscono fastidi molestie sul lavoro tutti i giorni ma non gliene importa niente a nessuno quindi la mia proposta qual è se può essere interessante è appunto la scuola e quindi insegnare il rispetto fra le persone ma non con conferenze incontri lezioncini proprio come materia di studio e di analisi che così come la storia come la geografia ogni settimana avesse proprio i ragazzi avessero un'ora a disposizione anche perché nelle famiglie molto spesso la cultura manca e lo vediamo che siamo pochissimi ci stiamo parlando fra di noi che siamo già ultrasensibili a questo problema io riprendo anche il discorso dello psicologo della brigata Sassari cioè non è solo un problema culturale spesso c'è anche un substratto psichiatrico o comunque di disagio psicologico e come ho già detto in altre occasioni l'ho detto anche alla prefetta fra l'altro anche il linguaggio di genere è fondamentale si tratta di prefetta e di avvocata se vogliamo naturalmente parlare di rispetto perché il rispetto della dignità della donna come io credo che se io chiamassi l'avvocato Satta avvocata probabilmente tutti si meraviglierebbero si riderebbero quasi anzi senz'altro mentre invece se io sono avvocato e vengo chiamata avvocato è giusto non è così io sono un'avvocata non un avvocato e quindi anche l'educazione a parlare l'italiano in definitiva a usare gli aggettivi e i sostantivi declinati in italiano quella è cultura ci manca siamo un'elite a portare avanti questi concetti e riprendendo quel discorso dello psicologo io sono un medico una medica una dottora che non lo so una ginecologa in particolare però quello che io ho detto appunto alla prefetta ho detto anche al presidente dell'ordine dei medici che purtroppo è dovuto andare via probabilmente sarebbe interessante avere negli ambulatori di medicina di base una figura di sostegno come uno psicologo uno psichiatra una psichiatra una psicologa in tutti gli ambulatori dei medici di base che hanno un'utenza di 1800 persone 1500 persone fra tutte queste persone quante sono quelle donne che non riescono ad avere il coraggio di andare da chi di dovere di andare dall'inquestura di andare dall'avvocato perché hanno neanche la cultura appunto per far questo mentre invece col medico di base si instaura un rapporto confidenziale di fiducia per cui con loro può parlare la donna o l'uomo o chiunque qualsiasi persona che ha un disagio e subisce violenza può parlare e può anche rivolgersi eventualmente su consiglio anche del medico di base al professionista che potrà aiutarlo perché molto spesso c'è una patologia dietro certi comportamenti non è istinto non è raptus non esistono queste cose esiste la persona sana colta oppure malata ignorante dobbiamo allora aiutare queste persone io sono abbastanza pessimista a differenza della persona che mi ha preceduto perché questo vuoto è il segno dell'indifferenza e basta scusate scusate se mi ripresento sposo in pieno il problema del linguaggio di genere al 100% purtroppo mi preme dire che è una lotta che io tutti i giorni faccio non con Zia Furica con tutto rispetto Zia Furica ma con i miei colleghi per cui ci sono colleghe che si sentono fese perché io le chiamo avvocata ok poi c'è un dato che stamattina mentre mi preparavo diciamo a questo a questo convegno per leggere così due cose al volo un dato che mi ha impressionato mi ha fatto venire la pelle d'occa in Italia il 30% delle donne il 30 scusate il 37% delle donne non ha un conto corrente intestato per me è un dato allucinante Italia 2022 forse in Burundi i dati sono più favorevoli grazie dobbiamo lasciare l'aula perché sono le sette e mezzo la presidente la chiusura allora ringrazio tutti i presenti coloro che ci stanno seguendo via streaming e naturalmente le autorità militari che sino all'ora tarda sono qui con noi a seguire il convegno e tutti i presenti comunque io penso che questo convegno sia stato un convegno molto interessante e mi sia servito soprattutto per unirci tra di noi come Cug come commissioni pari opportunità regionali a livello provinciale e locale serve la cosa importante è quella di rimanere sempre tutti uniti e cercare di fare rette per poter lavorare e collaborare tutti quanti insieme per cambiare diciamo questa situazione veramente triste che ogni volta ci vede di fronte a un omicidio un femminicidio quasi tutti i giorni quindi cerchiamo di lavorare tutti tutti insieme noi anche come commissione a livello comunale diciamo stiamo lavorando e abbiamo lavorato soprattutto nelle scuole nelle scuole elementari insegnando loro fin da bambini il rispetto del diciamo del simile della persona simile dell'articolo 3 della costituzione in particolare sulle parità abbiamo portato questo messaggio ai bambini e devo dire che i bambini hanno percepito questo messaggio l'abbiamo portato proprio direttamente non nelle aule grandi in grandi sale l'abbiamo parlato direttamente con loro e spero che questo sia stato un seme che possa germogliare prima o poi vi saluto vi ringrazio tutti e buona serata alla prossima occasione grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti